che ci vede intorno alla quinta elementare e a che cosa significa in una quinta elementare parlare di educazione civica. Parleremo naturalmente non solo della legge, perché la legge è naturalmente conosciuta da tutti, ma come qualcuno di voi ha chiesto nelle domande, le persone che hanno risposto alle aspettative, la maggior parte delle persone che ha risposto alle aspettative ha risposto dicendo vorrei imparare qualche cosa di concreto per fare meglio capire che cosa significa educazione civica ai miei allievi. Allora cercheremo di fare questo percorso. Io mi presento, mi chiamo Maria Paola Dario, sono la presidenza del Club per l'UNESCO di Torino e con me c'è... Io sono Giorgia Tessadri, sono una studentessa universitaria e collaboro con il Club per l'UNESCO di Torino da circa due anni. Benissimo, quindi avremo da lavorare insieme fino alle 17.30. Noi vi abbiamo inviato un questionario per conoscervi almeno un po'. Ci sono arrivate su una settantina di presenze che dovrebbero esserci oggi 46 risposte che noi abbiamo avuto il tempo di leggere e anche perché per fortuna il Montepaschi di Siena aveva fatto un ottimo lavoro facendoci anche delle sintesi grafiche e dalle sintesi grafiche compare che il 97% di voi ha già fatto un insegnamento in quinta elementare, quindi siete tutte le persone super esperte, che il 93% di voi ha già seguito School Food e quindi anche in questo siete tutti esperti, che invece solo il 15% ha seguito una qualche indicazione rispetto alle unità all'interno del programma di School Food. Quindi probabilmente pochi tra voi ci conoscono, tra l'altro pochi vuol dire poche perché dalle risposte pervenute, così come era già successo ieri in questo gruppo che è ancora più cospicuo, c'è per ora un unico elemento maschile. Così? Oppure ci sono altri maschi che si sono aggiunti e non hanno avuto il tempo di rispondere? Intanto ci sentite? Sì Allora, non ci sono altri maschi che almeno si vogliono palesare? Va bene, non importa, questo conferma la tendenza della scuola italiana che dà spazio alle donne, ma è una parità di genere un po' dispari, soprattutto nella scuola elementare. Comunque, preso atto di questo. Buonasera Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, cominciamo a dirvi che cosa si tratta, visto che non sapete, che non ci conoscete più di tanto, che cosa è l'UNESCO, probabilmente questo lo sapete, e prima ancora, scusate, vi proponiamo la suddivisione del programma di oggi pomeriggio, così vediamo se siamo tutti d'accordo. Noi l'avremmo organizzato in questo modo fino alle 15.10, trattiamo i primi due temi che School Food vi presenterà poi attraverso la spedizione delle unità didattiche e poi faremo un intervallo dalle 15.10 alle 15.25, successivamente finiremo per trattare il terzo, il quarto e il quinto tema. I temi sono, il primo, educare le relazioni interpersonali e di gruppo e sociale, vedremo come, il secondo tema è educare il governo, la giustizia e la pace, il terzo è educare la protezione dell'ambiente e del patrimonio materiale e immateriale dell'UNESCO, quarto tema è educare le istituzioni nazionali ed europee e al rispetto delle leggi, quinto tema è educare lo sviluppo sostenibile alle istituzioni internazionali, agli obiettivi dell'agenda 2030. Ci sono delle obiezioni rispetto a questa suddivisione di programma? Va bene per tutti l'intervallo tra le 15.10 e le 15.25? Sì, 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 va bene, perfetto, va bene, grazie. Allora, abbiamo già ingraziato, prego? Ah, ok, niente, allora, volevo fare ancora, prima di entrare nella spiegazione di chi siamo noi, volevo fare ancora una precisazione ed è questa, dalle risposte che ci sono arrivate compare che già il 97% di voi ha già affrontato una quinta elementare, per cui chiederemo al 3% di essere molto contento di far parte di una platea molto capace di dare dei consigli, i consigli arriveranno tra colleghi e arriveranno anche a proposito di questioni che magari possiamo dibattere insieme. Quello che ci piacerebbe fare, nonostante la difficoltà dell'online e del non poterci confrontare deviso, è quello di non solo fare una proposta di contenuti che vi possono aiutare con esercizi, che vi possono aiutare per l'educazione civica, ma anche di cercare di fare una sorta di dialogo. Tra chi ha già avuto delle esperienze e chi non le ha ancora avute o chi intende perfezionarle. Io vorrei partire però proprio con la presentazione vostra, a parte i numeri che vi abbiamo citato, il 3% che non ha ancora fatto la quinta elementare ha delle paure o ha delle domande da fare al resto del 97%? Perché sarebbe interessante, ieri per esempio siamo partiti con insegnanti di prima elementare che avevano scoperto di dover affrontare dei nuovi gruppi di prima elementare dove la maggior parte dei bambini 10 su 14 erano bambini stranieri e sono stati in questo confortati da altri loro colleghi, altre loro colleghe che hanno dato loro delle concrete proposte di soluzione del problema. Quali sono i timori di una persona che si accosta a fare per la prima volta una quinta elementare? Ci sono dei problemi o delle paure particolari per un insegnante che non ha mai fatto quinta elementare? No. O no? No. Va bene, allora vuol dire che tutto sarà semplice e facile. Quindi la quinta elementare è la fine di un percorso che si spera abbia avuto una certa continuità didattica. Voi riuscite ad avere nelle vostre scuole continuità didattica? Sì, è interessante. Abbastanza, sì. Noi sì, abbastanza. Avete anche voi nelle vostre regioni un fenomeno che sta prendendo piede delle regioni del Piemonte che è quello di genitori che tengono a casa i loro bambini e che fanno una scuola familiare? No, ancora non. Sì, ancora non è fatto, sì. A Bari nella nostra scuola no. E per quali cause se ci sono queste cose? A noi no. Toscano. Perché per esempio nella regione intorno al Cuneese queste cose stanno succedendo proprio perché l'obiezione principale è quella di dire ma c'è una maggioranza di stranieri e io piuttosto il bambino me lo tengo a casa e gli faccio lezione io e un certo genitore si propone per fare scuola a un certo numero di ragazzini e poi li porta a fare l'esame di prima, seconda, terza, quarta, quinta elementare alla fine dell'anno. Questo è un fenomeno che voi non avete ancora riscontrato? No. Per fortuna. Per fortuna, per fortuna. Sì, è una fortuna anche perché non si sa bene come i genitori possano, però insomma, questo è un fenomeno che da noi si sta invece ampliando. E magari... Eh? Sì. Va bene. Ci sono delle cose che volete dirci per presentarvi o per presentare particolari richieste, oltre a quelle che avete già espresso per chi ha risposto? Vi ho già detto prima, la maggioranza di voi ha richiesto di avere ulteriori informazioni sul tema dell'educazione civica e di avere naturalmente delle indicazioni di esercizi. Questo è il compito che School Food ci chiede sempre, quello di darvi delle modalità ludiche e non le solite modalità contenutistiche che già avete nei libri di testo per poter far arrivare alla conoscenza dei contenuti attraverso delle vie che possano essere anche comprese da bambini non perfettamente inseriti o che comunque diano spazio all'inclusione. Allora, io stavo dicendo prima, tutti quanti sapete che cos'è l'UNESCO? Lo spieghiamo brevissimamente dicendo che l'UNESCO è un acronimo di un'organizzazione internazionale. L'UNESCO è la prima che nasce dopo l'ONU e mentre l'ONU nasce nell'ottobre del 1945, l'UNESCO nasce nel novembre del 1945, quindi a un mese di distanza, proprio perché quando finisce la seconda guerra mondiale era già nato un gruppo dal 1943 che si palesa nel 1945 dicendo che la ricostruzione di questo mondo distrutto che era effettivamente stato distrutto ovunque, sia nel morale che negli edifici, può essere affidato solo a un diverso modo di intendere l'educazione. E quindi si costruisce questo organismo delle Nazioni Unite che si occupa di educazione nella scienza, nella cultura e successivamente verrà affidato all'UNESCO anche l'obiettivo della comunicazione, che oggi peraltro è uno degli obiettivi principali. Come voi sapete alle organizzazioni internazionali gli stati possono partecipare liberamente o possono anche scegliere di non partecipare. Attualmente la partecipazione all'UNESCO è di 194 stati membri, mentre quello dell'ONU è di 193. La differenza sta nel fatto che l'UNESCO è il primo organismo internazionale che ha ritenuto che la Palestina potesse essere considerata uno stato autonomo e quindi il riconoscimento della Palestina fa sì che gli stati nella configurazione dell'UNESCO siano uno in più rispetto a quello delle Nazioni Unite. Quindi il compito principale che l'UNESCO si propone è quello dell'educazione, educare la scienza, educare la cultura, educare la comunicazione. E vedremo come tutto questo viene declinato attraverso documenti che vengono poi lanciati sul panorama internazionale. L'UNESCO è l'unica organizzazione che ha anche dei gruppi associativi, che sono dei gruppi di persone che volontariamente, come nel caso del club per l'UNESCO di Torino, ma di altri 120 club UNESCO che sono in giro per l'Italia, in Puglia ce ne sono cinque, no in cinque per carità, in Puglia ce ne sono ben venti e in Toscana ce ne sono cinque, tanto per dire, e l'organizzazione per esempio di questa associazione è un'organizzazione di associazioni di volontariato, o di vuol dire semplicemente organizzazione di volontariato. Quello di Torino è riconosciuto come un centro internazionale dal 1982, è un istituto della regione Piemonte che progetta e realizza delle attività di formazione secondo i programmi UNESCO, ed è un centro di documentazione. Abbiamo un centro di documentazione che contiene un certo numero di volumi che riportano i vari rapporti delle diverse relazioni internazionali. Vi ho detto, l'UNESCO produce dei documenti che poi fa tradurre nelle diverse lingue, perché le lingue di lavoro dell'UNESCO sono l'inglese e il francese. Nel 2021, rispetto al discorso dell'educazione, l'UNESCO sottolinea in tutti i paesi che bisogna reimmaginare i nostri futuri insieme per un nuovo contratto sociale. Questo documento è stato tradotto in italiano dalla Commissione Nazionale e propone degli obiettivi che i vari livelli educativi, dalla scuola elementare alla scuola materna alla scuola primaria di secondo grado e alla scuola di secondo grado e all'università, si devono mettere in piedi. Prima di tutto, la Carta dei diritti umani. Voi vedete una fotografia di bambini che sono intenti a leggere i 30 articoli che compongono la Carta dei diritti umani, che era stata approvata nel 1948. Quindi l'impegno dell'UNESCO è quello di far rispettare i diritti umani, di farli agire. Il documento più vicino quindi all'UNESCO è questo, rimmaginare il nostro futuro insieme. Queste sono delle indicazioni che potete andare a vedere. Le facciamo subito vedere. Le facciamo vedere questo video. Un momento. Un momento solo. The futures of humanity and our living planet. The futures of humanity and our living planet are at risk. We are at a turning point. Urgent action is needed to change course and transform the future. Everyone alive today has a tremendous obligation to future generations to ensure that their world is one of human rights, abundance and not scarcity. Education is one of the key ways we address inequality, exclusion, and work on healing on damaged planet. But it all is on the world, education needs to be joint spent. Unesco launched its futures of education initiative to bring the world together to reimagine how education can shape the future to reimagine how education can shape the future. Despite the urgency of action and in conditions of great uncertainty, we have reason to be full of hope. Education can help us make a peaceful, just, and sustainable world. For this, we need to renew education by asking, what that we do now, should be continued, what should be abandoned, and what needs to be invented, afresh. A new social contract for education needs to be built. Collectively, we must strengthen education as a global common good. Let's all work together in our communities and across the world to ensure that education best supports our shared futures. Allora, la lingua, vi ho detto, è una lingua ufficiale, quindi è un inglese. Non so quanto sia stato facile seguirlo. Io vi leggerei solo una frase che ci sembra indispensabile proprio per il nostro pomeriggio. Questa frase dice, Nonostante l'urgenza dell'azione e le condizioni di grande incertezza, abbiamo un motivo di essere pieni di speranza, poiché l'educazione può aiutarci a dare forma ad un mondo pacifico, eco e sostenibile. Però per realizzare questo dobbiamo innovare l'educazione chiedendoci quanto di quello che facciamo ora sia da continuare, quanto da abbandonare o necessiti di essere reinventato. Direi che il principale scopo di un pomeriggio come questo è proprio quello di farci queste domande e di dirci, perché anche noi siamo formatori esattamente come voi, quanto quello che abbiamo fatto può essere mantenuto nonostante siano cambiate le condizioni intorno a noi, le condizioni storiche sono cambiate e stanno evolvendo in forme che sono molto difficili da interpretare, ma che richiedono comunque che l'educazione si riafforzi con dei nuovi strumenti, quanto quindi sia necessario abbandonare delle forme che abbiamo già sperimentato essere interessanti ma che non sono più adatte al mondo di oggi e quanto quindi dobbiamo andare a cercare delle nuove modalità per farci comprendere meglio degli allievi che abbiamo davanti, soprattutto quando questi allievi sono in quinta elementare e cioè sono in un momento che li porterà ad un passaggio importante per la loro vita, perché passare da una scuola elementare a una scuola media richiede un grado di maturità e di capacità di abbandonare un vecchio mondo che non è da tutti. Quindi questa è una delle missioni nascoste che gli insegnanti di quinta elementare hanno, quella di rendere i propri allievi sempre più capaci di essere in grado di affrontare un futuro che non conoscono, perché possono conoscere al massimo il nome della scuola, ma non possono conoscere la modalità degli insegnanti che andranno a incontrare, né il gruppo classe che invece magari per cinque anni hanno avuto la fortuna di avere sempre uguali. In questo senso una raccomandazione dell'UNESCO del 2023 riprende di nuovo questi argomenti e rimette l'accento sul fatto che è indispensabile un'educazione alla pace e ai diritti umani, alla comprensione internazionale, alla cooperazione, alle libertà fondamentali, alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile. Tutte affermazioni che già si ritrovano nei diritti umani e che vengono ancora una volta riproposte proprio perché si affida a tutti gli insegnanti del mondo la necessità di raggiungere questi obiettivi con le caratteristiche proprie di quel momento. Anche in questo caso abbiamo un secondo video e poi magari se ci date voi qualche commento vediamo che cosa possiamo fare. Il documento è tradotto in italiano, lo potete trovare sia sul nostro sito sia sul sito della Commissione Nazionale e la sottolineatura principale è che l'educazione ha un ruolo fondamentale nel creare un futuro di pace. Questo è fondamentale e il messaggio naturalmente è quello che dobbiamo imparare a veicolare attraverso delle forme particolari. Una delle forme è questo video che a noi è sembrato particolarmente interessante e che vi manderemo perché non l'avevamo ancora quando abbiamo finito di mandare il materiale al Monte Paschi di Siena. Anche questo è in inglese ma abbiamo già fatto la traduzione che troverete insieme al video. Un momento. per la parte per i diritti umani per i diritti umani per i diritti umani perché così per creare un futuro di più tanto e per il futuro di più tanto all'interno di questa situazione di educazione e la loro parte di solo. Adesso continua a ribadire questo principio e questo principio è interessante che si ritrova anche in un discorso del presidente Mattarella. La presidenza Mattarella e qui arriviamo all'educazione civica che si può fare a partire dai documenti anche di casa nostra. I documenti che noi vi presentiamo è il discorso che il presidente Mattarella fece in occasione del forum di Rimini dell'anno scorso e lui si chiedeva su che cosa si fonda la società umana la realtà nella quale ciascuno di noi è inserito se io leggo perché non ha condiviso nessun momento allora un attimo che così lo condividiamo e lo loggiamo insieme si è organizzata nei secoli in società politica dando vita alle regole e alle istituzioni che caratterizzano l'esperienza dei nostri giorni e forse il carattere dello scontro è inseguire soltanto il proprio successo ai beni essenziali di consumo è l'ostilità verso il proprio vicino e il proprio lontano è la contrapposizione tra i diversi o è addirittura sul sentimento dell'odio che si basa alla convivenza tra le persone se avessimo risposto affermativamente anche soltanto a una di queste domande con ogni probabilità il destino dell'umanità si sarebbe condannato da solo e da tempo questa prima parte del discorso del presidente potrebbe essere riproposta anche all'interno della classe per capire che cosa i bambini rispondono e incominciare in questo modo a proporre una visione diversa lui continua dicendo ecco come nasce la nostra Costituzione con l'amicizia come risorsa a cui attingere per superare insieme le barriere e gli ostacoli per esprimere la nostra stessa umanità per superare per espellere l'odio come misura dei rapporti umani il resto è un bellissimo esempio di come lui ha imparato il valore ha riconfermato la sua credenza nel valore dell'educazione portando l'esempio di un bambino migrante e lui dice io nello studio dell'appartamento dove vivo al Quirinale ho collocato un disegno che raffigura un ragazzino di 14 anni annegato con centinaia di altre persone nel Mediterraneo recuperato il suo corpo si è visto che nella fodera della giacca aveva cucita la sua pagella come fosse il suo passaporto la dimostrazione che voleva venire in Europa per studiare questo disegno mi rammenta che dietro numeri e percentuali delle migrazioni che spesso elenchiamo vi sono innumerevoli singole persone con la loro storia i loro progetti i loro sogni il loro futuro e il loro futuro tante volte è cancellato anche questo può essere uno spunto per fare una discussione con i vostri ragazzi e per capire quanto per loro proprio alla fine di un ciclo scolastico tutto quello che hanno ricevuto da voi in questi cinque anni ha portato a comprendere quanto sia importante tutto quello che hanno ricevuto magari senza neanche averne consapevolezza la pagella è la dimostrazione di quanto hanno gradito o meno quello che è stato loro detto ma è una dimostrazione del valore dell'educazione che dà delle dimostrazioni della sua importanza e questo è un ulteriore video che anche questo può essere una modalità per portare a discutere i ragazzini e un video fatto dall'ASVIS qualcuno di voi sa che cos'è l'ASVIS? Allora l'ASVIS è l'associazione per lo sviluppo sostenibile che è stato costituito dall'ex ministro Giovannini anni fa proprio per propagandare l'agenda 2030 e farne comprendere la realizzazione proponendo i 17 obiettivi dell'agenda 2030 con delle modalità perché la realizzazione avvenisse l'ASVIS presenta questa agenda 2030 in modo molto semplice con questo video che vi proponiamo di nuovo e che potrebbe di nuovo essere uno strumento da portare nelle classi sempre che non abbia già fatto tutto quello che avete potuto fare rispetto all'agenda 2030 vediamolo insieme a Grazie a tutti. 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 Se ne è parlato tardi in alcuni contesti, questo è verissimo, e in alcuni contesti non se ne è ancora parlato. Al di là del parlato, al di là del parlato non si sono messe in pratica delle politiche che si erano concordate. Grazie a tutti. 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 no ma hanno parlato probabilmente io parlo per le mie non registrate immediatamente ho capito ma questo non è grave ieri ci ha detto il responsabile di school food che vedo lì che magari può anche prendere la parola adesso e dirci e dire agli insegnanti quando i materiali saranno caricati inizio prossima settimana nell'area recente di school food perfetto grazie comunque noi abbiamo riportato adesso tema per tema il materiale che noi abbiamo inviato a school food quindi lo commenteremo e lo vedremo già in anteprima poi se la maggior parte di voi come pare dal questionario che ci avete ricevuto ha già lavorato con school food sapete perfettamente come il materiale viene suddiviso con tutta una serie di indicazioni che dovrebbero agevolare la realizzazione degli esercizi che vi sono proposti allora riprendiamo il discorso di quella che è la nostra competenza la nostra competenza la nostra competenza abbiamo detto all'inizio riguarda l'educazione civica la legge dell'educazione civica del 20 agosto del 2019 questa è ancora la legge vigente ci sono stati dei tentativi di modificarla ma per ora non sono andati a buon fine quindi per ora è questa la legge che rimane quella valida e sulla quale naturalmente ci siamo fermati per proporvi i vari esercizi la educazione civica dice la legge contribuisce alla formazione di cittadini responsabili attivi e alla promozione di una partecipazione consapevole alla vita civica culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole dei detti e dei doveri se questo è allora abbiamo costruito uno strand che abbia cinque unità di base che naturalmente vi propone di acquisire quanto la stessa legge dell'educazione civica dice che è necessario acquisire da una parte acquisire i dettami della Costituzione italiana dall'altra l'agenda 2030 in quanto strumento di base per lo sviluppo sostenibile e l'ultima delle indicazioni che noi abbiamo toccato perché non era il tema che dovevamo toccare è l'educazione alla digitale educazione alla digitale che era contemplata è contemplata nella legge dell'anno 2019 io ho sentito ieri non so se l'avete sentito anche voi che il ministro attualmente in carica ha fatto non ho capito se è un decreto legge o qualcosa del genere che impedisce l'uso del cellulare all'interno delle classi elementari e medie confermate che questo è stato nessuno di voi ha sentito? sì 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 abbiamo andato una circolare quindi è arrivata una circolare che dice poi volevo dire che anche le tue azioni ci sono delle nuove linee guida ma le linee guida non sono ancora state approvate per cui le lasciamo una parte l'unica cosa in più sì le nuove guida sono state proposte ma non approvate pertanto per ora si mantengono quelle del 2019 oltre alle cose che io vi ho detto c'è anche tutto un inserto sull'educazione stradale l'inserto dell'educazione stradale che è particolarmente importante perché è una educazione che comporta la vita o la morte molte volte di ragazzini che utilizzano in modo esageratamente sponzaneo anche il monopattino e la bicicletta senza tener conto del fatto che quelli sono comunque degli strumenti dei veicoli di comunicazione veloci che quindi devono avere il rispetto di determinate regole quindi anche l'educazione stradale fa parte dell'educazione civica questo di sicuro il uno strand che noi abbiamo naturalmente usato è uno strand di didattica attiva con dei giochi di ruolo delle ricerche dei documenti e soprattutto delle parole chiave all'inizio di ogni strand noi facciamo un chiarimento di quali sono sia i documenti che vi proponiamo di utilizzare per quello specifico strand ma anche per altri e soprattutto quali sono le parole chiave su cui puntare per chiarire a voi e anche ai vostri allievi i documenti che mettete in campo i cinque temi che nella nostra proposta ci sono sono uno educare la relazione interpersonale di gruppo sociale il due educare il governo giustizia e la pace educare la protezione dell'ambiente e del patrimonio materiale e immateriale dell'umanità educare le istituzioni nazionali ed europee a rispetto delle leggi educare lo sviluppo sostenibile e le istituzioni internazionali agli obiettivi dell'agenda 20-30 pertanto tutta la premessa che vi abbiamo fatto è funzionale alla introduzione a questi cinque temi entriamo nel modulo 21 che è il primo dei nostri moduli che ha come titolo educare la relazione interpersonale di gruppo sociale in caso vi abbiamo messo un glossario che riprende alcune delle cose che abbiamo già detto cioè il significato della sigla UNESCO e alcune delle cose che diremo che cos'è la costituzione italiana cosa sono i delitti umani questo simbolo adesso cercheremo di capire che cos'è tutti voi sapete che cos'è il patrimonio dell'umanità questa definizione è molto importante di fatti noi abbiamo parlato di educare le relazioni interpersonali e di gruppo sociale vuol dire che l'UNESCO ha fatto dei documenti e anche delle proposte che poi sono diventate non legge perché voi sapete che l'UNESCO non può fare delle leggi ma può fare delle proposte che poi i governi devono montare in leggi per costruire una lista che si chiama patrimonio mondiale dell'umanità adesso noi vi diamo alcune delle indicazioni che la raccomandazione del patrimonio mondiale e culturale dell'umanità mette in evidenza l'ha adottato l'UNESCO nel 1972 vuol dire che l'UNESCO lo ha messo in piedi e poi ciascuno Stato lo ha adottato quando ha ritenuto opportuno quando naturalmente i singoli parlamenti hanno preso in considerazione il discorso culturale e anche il discorso naturale voi sapete che per esempio la costituzione italiana è stata modificata recentemente rispetto al patrimonio naturale la modifica della costituzione io no 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 allora voi sapete intanto che la costituzione italiana è composta da principi fondamentali che in teoria non possono essere assolutamente cambiati e da principi invece che possono essere modificati allora proprio all'interno dei primi articoli che possono che dovrebbero costituire un articolo che rimane articoli che rimangono inviolabili si è modificato l'articolo 9 l'articolo 9 della costituzione italiana da due anni a questa parte comprende un'attenzione all'ambiente che prima non c'era e che quindi mette in pratica questo discorso della convenzione del patrimonio materiale culturale naturale dell'umanità che l'UNESCO aveva proposto sin dal 1972 siamo arrivati a qualche anno di ritardo ma comunque ci siamo arrivati la convenzione dice che sulla base del trattato naturalmente si decidono quali sono i siti naturali e i siti culturali che vanno a confluire all'interno di una lista del patrimonio mondiale dell'umanità la lista del patrimonio mondiale dell'umanità attualmente è composta da 1700 siti di questi quanti sono i siti italiani qualcuno lo sa quanti sono i siti che si definiscono patrimonio materiale il patrimonio culturale naturale di valore universale eccezionale come è stato detto da voi il patrimonio materiale è il patrimonio costituito dai monumenti allora qui abbiamo ancora una vecchia una vecchia una vecchia numerazione perché dal luglio di quest'anno i siti italiani sono diventati 60 ne sono stati promosti due in più uno dei quali è la Viappia allora cancelliamo subito correggiamo questo se è possibile farlo no non è possibile farlo perché è un'immagine quindi sui vostri documenti correggetelo subito voi materialmente perché noi questo l'abbiamo consegnato prima che ci fosse la nuova designazione e quindi non è un errore ma è un aggiornamento da fare i siti italiani riconosciuti come siti importanti da poter comparire all'interno del patrimonio mondiale di umanità sono attualmente 60 e l'Italia è la prima nazione in riconoscimento di tanti siti la seconda nazione che segue l'Italia quale può essere quale potrà essere la nazione che segue l'Italia per i siti la Cina bravissima però se noi se noi paragoniamo l'ampiezza della Cina all'ampiezza anzi alla ristrettezza d'Italia siamo ben orgogliosi di dire che siamo primi in assoluto perché la Cina ne ha 59 è sempre trattata tutto ma comunque per ora i 60 siti italiani che sono diffusi su tutto il territorio italiano sono quelli che ci fanno considerare il primo patrimonio questo patrimonio come già stato letto da qualcuno di voi è un patrimonio che favorisce la relazione interpersonale di fatto molto del turismo che arriva in Italia è dovuto al fatto che molte persone studiano l'Italia e studiano l'italiano molto di più di quello che si pensa proprio perché abbiamo una storia che molti popoli del mondo ci invidiano e molti popoli del mondo vengono a vedere i resti romani e le varie bellezze che le nostre città studiscono a volte in modo un po' selvaggio ma comunque rappresentano comunque una relazione di cui noi non ci rendiamo neanche conto perché noi difficilmente siamo consapevoli del patrimonio che dobbiamo costudire perché secondo la convenzione dell'UNESCO è dovere di tutti i cittadini del mondo costruire o meglio costruire costruire scusatemi costudire e conseguentemente valorizzare tutti i patrimoni che la storia ha affidato loro perché questi patrimoni siano fruibili anche dalle regioni che verranno la RaiPlay ha fatto un bellissimo servizio già da tempo e sul RaiPlay voi potete trovare non solo la lista del patrimonio ma anche tutti i video che sono stati fatti per ciascuno dei monumenti che si trovano all'interno delle nostre regioni noi qui vi abbiamo riportato la prima attività del primo modulo del club per l'UNESCO si basa proprio su questo elenco di video che è possibile trovare su RaiPlay ma anche su Youtube sul canale del Ministero avrete poi tutti i link sezione e in allegato vi abbiamo inserito anche tre dei video relativi a tre siti in particolare Matera il centro storico di Firenze e le residenze Sabaude l'attività consiste nel chiedere agli allievi se hanno già visitato dei siti che fanno parte della lista del patrimonio dell'UNESCO nella loro regione o anche in altri paesi nel caso in cui abbiano viaggiato anche all'estero dopo aver appunto commentato quanto gli allievi rispondono l'insegnante può mostrare uno dei video di presentazione scegliendo appunto tra i 60 siti italiani che sono iscritti nella lista questo porta poi ad una riflessione guidata in cui si comprende quali sono le caratteristiche che un sito deve possedere per entrare a far parte della lista del patrimonio dell'UNESCO ovvero come leggete qua al fondo eccezionale valore mondiale dal punto di vista storico artistico scientifico che deve essere preservato da tutti qui abbiamo riportato due ulteriori esempi di siti che fanno parte della lista del patrimonio mondiale uno per la Puglia e uno naturalmente per la Toscana non abbiamo messo Firenze per evitare di fare come al solito sempre solo lo stesso riferimento c'è anche il centro solito di Siena in Toscana che è un monumento ovviamente riconosciuto dal patrimonio mondiale dell'umanità e altrettanto i trulli di Alberobello sono per la Puglia un vanto da molto tempo le immagini sono prese appunto dal sito dell'UNESCO su cui trovate l'intera lista del patrimonio mondiale culturale martideriale e naturale con le relative immagini che abbiamo riportato qua sempre continuando l'esercizio l'insegnante divide poi gli allievi in gruppi da cinque e chiede ad ogni gruppo di fotografare oppure ricercare almeno due monumenti del proprio territorio che potrebbero rientrare a far parte di una lista del patrimonio cittadino l'insegnante distribuisce ad ogni gruppo la mappa del territorio ogni gruppo inizia quindi a pensare a quali monumenti possono essere segnalati e ipotizza il percorso da compiere per andare a fotografare o a vedere i due monumenti che sono stati scelti dal gruppo noi negli allegati vi abbiamo messo degli esempi di mappe che potreste stampare e che sono mappe dei vostri territori abbiamo fatto alcuni esempi ma ovviamente voi potete poi scegliere quelle più specifiche della regione della città o del territorio ovviamente nel caso in cui non ci sia la possibilità di andare a fotografare di andare all'esterno a fotografare i monumenti c'è sempre la possibilità di fare una ricerca in classe ad esempio o di chiedere ai bambini di fare una ricerca a casa e per l'incontro successivo si possono fare ci sono due opzioni che si possono scegliere una è una ricerca come dicevo appunto prima con l'aiuto dell'insegnante o con l'aiuto di un genitore oppure organizzare un'uscita di classe per andare tutti assieme a fotografare i monumenti indicati questo quindi era l'esercizio del modulo 21 nel modulo 22 che è il modulo di consolidamento si continua io scusa prego scusi il modulo del modulo del 21 si è possibile vedere la sfermata le prime fasi si si no no questa questa qua stavo prendendo un appunto ho perso prego ma è tanto questo è quello che ritroverete sul materiale che il cold food mette a vostra disposizione no si si certo è solo era un punto nuovo va bene va bene è sufficiente o deve ancora rivedere d'accordo grazie allora passiamo al modulo di consolidamento esatto riprendiamo quindi anche nel modulo di consolidamento l'attività del modulo precedente del modulo di base ogni gruppo in questo momento ha portato cinque fotografie dei monumenti cittadini meritevoli di essere inseriti nella lista del patrimonio cittadino oppure ha fatto una ricerca assieme all'insegnante o al genitore le fotografie vengono incollate su un cartellone e sotto ogni fotografia dovrà essere riportata l'adidascalia corrispondente questo lavoro si può fare nel caso in cui non ci sia la possibilità di stampare le fotografie anche attraverso un uso di powerpoint oppure di strumenti come canva con una ricerca online e questo cartellone virtuale può essere proiettato sulla lavagna interattiva ogni gruppo sceglierà poi un rappresentante un cicerone che illustrerà agli altri il valore dei monumenti fotografati a partire da questo questi cartelloni verranno valutati i risultati anche verificando se ci sono dei monumenti che hanno ricevuto più considerazioni e quindi si può stilare un elenco di quelli che sono i monumenti più fotografati questo elenco da questo elenco si sceglierà quindi un monumento di cui si vuole chiedere il riconoscimento al liceo del patrimonio cittadino e si può in conclusione scrivere una lettera al sindaco in cui si inseriscono le immagini o le fotografie che sono state fatte e si motivano si descrivono appunto le motivazioni che la classe ha trovato per inserire questo monumento nella lista del patrimonio cittadino questo percorso è un percorso che riprende totalmente proprio il titolo del modulo il titolo del modulo dice educare alla relazione interpersonale e cioè uscire dalla propria classe andare all'interno della città cercare degli elementi che non sono solamente miei propri ma sono elementi comuni a tutti i cittadini di quel luogo nella propria città anche un altro luogo poi quindi educare alla relazione di gruppo e conseguentemente educare alla relazione sociale educare alla relazione di gruppo significa scegliere in gruppo quali sono gli elementi più interessanti che possiamo proporre a un gruppo più ampio e per educare alla relazione sociale diciamo va bene allora questa approvazione a chi la chiediamo la chiediamo all'autorità principale della città che è il sindaco della città e quindi impariamo a scrivere una lettera ad un'autorità che non è una cosa semplice perché è comunque un'autorità e quindi bisogna utilizzare un registro linguistico che è diverso da quello che si usa per scrivere un whatsapp o per scrivere un sms cosa che sarà il caso di insegnare sin dalla quinta elementare proprio perché come dicevamo ci si augura che nella successiva prima seconda e terza media si insegnino ancora dei modi per scrivere in un italiano corretto e non in un italiano pieno di abbreviazioni o di riferimenti che hanno un senso solo per le nuove generazioni ma non per fare diversi tipi di attività oltre a questo la scrittura che poi può essere inoltrata o meno questo sta poi all'insegnante deciderlo comunque di una lettera al sindaco è proprio la tappa che devono fare tutti coloro che vogliono fare approvare un monumento dal patrimonio mondiale d'unità la prima autorità alla quale si presenta la domanda per far approvare una qualunque entità sia di patrimonio materiale che di patrimonio immateriale è proprio il sindaco della città che deve essere chiamato a collaborare proprio perché questa domanda va davanti quindi è il percorso normale che qualunque gruppo di adulti deve fare per il patrimonio mondiale d'umanità per fare l'acquisizione di un patrimonio mondiale d'umanità ci sono delle domande rispetto a questo che abbiamo addormentato tutti dobbiamo fare la pausa adesso va bene allora vi lasciamo riflettere e poi passiamo al modulo 23 abbiamo detto che la pausa la facevamo alle 15 10 siamo alle 15 10 siamo in orario e quindi ci rivediamo alle 15 e 30 va bene siamo d'accordo ok va bene va bene allora tra 15 minuti ci rivediamo va bene allora siamo indietro di un modulo ma cercheremo di recuperarlo e passiamo quindi al secondo tema il secondo tema è educare al governo la giustizia e la pace e si tratta di affrontare il modulo 23 e 24 come tutti voi che avete già partecipato allo school food sapete sempre che c'è un modulo base e dopo il modulo base il modulo di consolidamento questo modulo di consolidamento a seconda delle vostre abitudini potete farlo a distanza di qualche giorno di una settimana è un periodo di tempo che dovete decidere voi che cosa fate di solito almeno per quelli che sono abituati a utilizzare il materiale di school food a quanto tempo lasciate trascorrere tra il modulo di base e il modulo di consolidamento di solito non molto tempo una settimana anche io una settimana 10 giorni la settimana successiva dell'orario di ogni insegnante sì 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 una volta alla settimana quindi la settimana successiva si riprende e si consolida ah perché l'ho fatto ogni volta alla settimana ho capito quindi allora ma i bambini si ricordano una volta all'altra sì sì si partecipano sono molto attivi i bambini partecipano meno male sono molto interessati bene allora per educare il governo la giustizia e la pace noi vi abbiamo scelto un altro video che l'UNESCO ha messo a disposizione che adesso vediamo insieme e che naturalmente ci ripropone il nostro essere all'interno di un mondo molto più vasto che è quello della normale comunità che noi frequentiamo questo è importante come acquisizione perché è importante che le persone sappiano sappiano di essere non da soli ma neanche solo con la comunità che conoscono sono all'interno di un mondo che diventa sempre più piccolo ma che è comunque molto grande il mondo ha alcune di queste caratteristiche anche questo che ci ripropone che ci ripropone è ancora interdita a troppi d'hommes e di femmine in cui la contaminazione si considera a menudo un problema almeno però non cambiamo il nostro modo di vita e che ci sono alcuni, mentre l'unico si può agire voglio che tutti i bambini, non solo i bambini o ragazzi ci sono accogli un'educazione di qualità che faccia di lui un cittadino del mondo quindi l'accusso di l'expression e della pressa la diversità culturale è preservata per farlo che la paese si riconosce la biodiversità si riconoscono come riconosci che tutti i giovani e i uomini per che sia meglio vivere insomma perché è d'abord in l'esprit del uomo e delle donne che la paese si construisce Ecco, un esercizio che noi non abbiamo scritto, ma che sicuramente si può fare, è far vedere un video come questo e da questo trarre degli spunti del tipo, per esempio, quante sono le lingue che hai riconosciuto, quanti sono i linguaggi, o meglio, le personalità che hai trovato, quante etnie, quante religioni hai visto, queste sono delle osservazioni che possono essere fatte immediatamente dopo. Qui vi abbiamo naturalmente riportato la traduzione, che è la traduzione di quanto i ragazzini di tutto il mondo raccontano e direi che la cosa più interessante è l'inizio che dice sono nato in un pianeta e sto crescendo in un mondo dove 60 milioni di bambini non vanno a scuola. Allora, tutti i nostri bambini maledicono, quasi tutti, il momento in cui si devono alzare, fare colazione e andare a scuola, il momento in cui riprende la scuola il 9, il 16 di settembre, come nel vostro caso. E qui invece ci sono bambini che dicono, ci sono due persone su tre che non sanno leggere o scrivere. Sono donne e ragazzi dove affermare ad altra voce quello in cui si crede, scrivere liberamente quello che si pensa, è vietato per tutti. Allora, queste osservazioni e poi anche quelle successive, scegliete voi quelle su cui mettere maggiore attenzione, possono già essere un primo momento per far capire ai bambini che abbiamo nelle nostre classi quanto comunque, indipendenzialmente da quello che pensano tutti i giorni, sono fortunati perché hanno sulla loro testa un tetto di una scuola, perché hanno qualcuno che, come le loro maestre, si impegnano quotidianamente a fare in modo che loro imparino qualcosa di più, perché il giorno successivo siano un pochino più saggi e perché il giorno successivo, naturalmente, si arrivi a fare che tutte le donne e tutti gli uomini possano vivere meglio insieme. Meglio insieme è la condizione fondamentale per vivere in pace insieme. E allora la slide successiva è quella che dice che cosa significa costruire la pace oggi, questa qui io l'avevo eliminata. La direttrice generale dell'UNESCO di anni fa diceva che l'UNESCO opera in tutto il mondo perché l'educazione, le scienze, la cultura, la comunicazione e l'informazione siano forse per la pace e lo sviluppo e questo naturalmente è il credo umanista che deve far agire ciascuno di noi per un miglioramento del mondo. Allora, un altro elemento che l'UNESCO concretamente mette a disposizione di tutti è il riconoscimento del patrimonio immateriale. Il patrimonio materiale, abbiamo visto, è costituito principalmente da beni che sono tangibili, cioè monumenti o anche zone naturalistiche. il patrimonio immateriale è invece tutto quello che fa riferimento diretto alla cultura che è nata intorno ai patrimoni materiali. In effetti il patrimonio immateriale è una convenzione che è stata convalidata solo nel 2003, ma che di fatto ha già alcune osservazioni già presenti nel 1972. Anche per quello che riguarda il patrimonio immateriale c'è una profonda interdipendenza tra l'uno e l'altro tipo di materiali, tra quello immateriale e il patrimonio culturale naturale ed è un patrimonio che serve per naturalmente rendere più coese le comunità internazionali e fare in modo che si scoprano delle affinità tra le popolazioni che altrimenti si considerano molto diverse e molto distanti tra di loro. Quindi è uno strumento di pace. Il patrimonio culturale immateriale naturalmente definisce le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni e i saperi e altrettanto il patrimonio culturale si manifesta nelle tradizioni, negli arti dello spettacolo, nelle pratiche sociali, nelle conoscenze e nei vari saper fare legati all'artigianato tradizionale. Questo secondo documento è un documento che ci porta ad aiutarvi a fare degli esercizi perché i ragazzini scoprano quali sono i patrimoni immateriali intorno a loro. E la prima fase dell'attività che noi vi chiediamo di fare naturalmente è quella di fare un esempio che è forse più vicino a loro e cioè far vedere il video che è dedicato al riconoscimento che è all'arte del pizzaiolo napoletano. Che non è che l'UNESCO abbia riconosciuto la pizza come patrimonio immateriale ma l'UNESCO ha riconosciuto l'arte del pizzaiolo cioè l'arte e l'artigianato di come fare delle cose nel modo migliore possibile. Cose che poi diventano di patrimonio mondiale. Questo link che noi vi abbiamo messo nel documento che vi abbiamo mandato e che vi arriveranno naturalmente lo potete trovare su YouTube e commentare con i vostri allievi. Dopodiché la fase seconda è simile alla fase precedente cioè è fare un elenco di altri patrimoni immateriali riconosciuti all'interno dell'UNESCO. Il primo per esempio patrimonio immateriale riconosciuto dall'UNESCO proprio per l'Italia è stato l'opera dei pupi siciliani che è un elemento riconosciuto addirittura già nel 2008. Accanto a questo c'è un altro elemento che è la dieta mediterranea. La dieta mediterranea che è un elemento interessante perché non è un elemento nazionale ma è un elemento internazionale che accomuna la bellezza di nove paesi diversi che tutti si affacciano sul Mediterraneo e che condividono una dieta di base che è chiamata genericamente dieta mediterranea che naturalmente è una dieta di tipo naturalistico perché nasce dalla fruizione di quelli che sono i beni che naturalmente vengono prodotti in quella regione. Quindi non si tratta di banane, non si tratta di avocado ma si tratta di pomodori, si tratta di olio d'oliva che nasce sulle coste naturalmente del mar Mediterraneo e altre specialità che sarebbe bene magari far elencare dai bambini stessi. Un altro patrimonio materiale a tutta l'Italia in questo caso è il patrimonio del tartufo. Il tartufo viene indicato come presente principalmente ad Alba per quello che riguarda il Piemonte o principalmente in Umbria per quello che riguarda l'Italia centrale ma non è vero questo. E là il riconoscimento della cerca e della cava del tartufo è presente in molte altre regioni d'Italia. Un elemento interessante di questo patrimonio immateriale è che in questo caso si fa una sottolineatura molto evidente nel riconoscimento di questo bene dicendo che l'uomo riesce ad arrivare a fare la cavatura del tartufo grazie alla educazione di cani che lo aiutano e quindi i protagonisti della cava e della ricerca del tartufo non sono solamente gli uomini ma sono uomini accompagnati da cani appositamente addestrati senza i quali difficilmente l'uomo potrebbe trovare il tartufo anche perché il tartufo è sottoterra e quindi difficilmente riconoscibile. Mentre i cani con il loro olfatto che è stato naturalmente educato a quello riescono ad aiutare seriamente l'opera dell'uomo. La fase numero tre è simile a quella dell'esercizio precedente cioè è quella di andare a chiedere ai bambini quali sono secondo loro i patrimoni che possono essere riconosciuti all'interno naturalmente ogni gruppo presenta attraverso un disegno un'esibizione teatrale, una performance canora i tre elementi individuati manca un pezzo qui scusatemi c'è una fase precedente nella quale naturalmente l'insegnante deve riprendere i gruppi che erano stati Sì, qua al fondo dice appunto che si possono ricomporre i gruppi dei moduli 21 e 22 oppure formarne di nuovi e è compito dei nuovi gruppi citare le tradizioni locali rievocazioni storiche forme tipiche di artigianato vecchie canzoni dialetti del luogo che potrebbero entrare a far parte della lista del patrimonio territoriale o cittadino come nel caso precedente ogni gruppo presenta la propria proposta con almeno tre elementi che vengono individuati attraverso un disegno, un'esibizione teatrale una performance canora e un portavoce come nel caso precedente chiarisce la motivazione della candidatura al termine della presentazione come nel caso precedente sempre si stila un elenco degli elementi più citati e si vota quale elemento vuole essere proposto da parte della classe scrivendo una lettera indirizzata all'assessore della cultura oppure può essere fatto ad esempio anche un video sì inoltre quindi questa richiesta all'assessore della cultura in cui si spiega come abbiamo detto anche per il patrimonio materiale i motivi che hanno portato la classe l'insegnante a scegliere quell'elemento questo è sottolineatura di inviare la lettera non più al sindaco come nel primo caso perché si trattava nel primo caso di un patrimonio molto cospicuo ma in questo caso invece di un patrimonio immateriale e inviarlo all'assessore della cultura può darvi naturalmente l'opportunità per chiarire ai bambini come è costituita un comune e quali sono le persone che reggono e che hanno diverse competenze l'assessore della cultura ha una competenza diversa rispetto all'assessore della sanità e allora a questo punto si può aprire poi tutto un discorso su quali sono le competenze che sono necessarie per mandare avanti un discorso a livello comunale poi provinciale e poi a livello nazionale e questo vi porterà naturalmente ad andare a cercare quelli che sono gli articoli indicativi da questo punto di vista all'interno della Costituzione italiana che vi dà delle precise indicazioni tra l'altro questo è un argomento di sicura attualità con tutto questo discorso sulla autonomia regionale voi sapete che è stato a proposito di modificazioni della Costituzione italiana un'altra modificazione molto importante e di cui appunto si sta discutendo molto adesso è l'articolo 5 l'articolo 5 è stato modificato non molti anni fa ed ha dato una responsabilità alle regioni di idea nel campo solamente di due assessorati l'assessorato alla cultura scusatemi alla sanità e l'assessorato all'istruzione questo consente per esempio una diversa apertura delle classi voi aprirete le vostre lezioni il giorno 16 noi in Piemonte le apriremo il giorno 9 o addirittura il giorno 11 e questa è una delle espressioni dell'autonomia che già esiste rispetto al discorso dell'autonomia regionale e poi si vedrà che cosa riuscirà a fare il governo rispetto alla sua proposta di autonomia regionale ma è una modificazione che si vedrà poi nel modulo di consolidamento sempre riferito al discorso del patrimonio immateriale vi proponiamo un gioco di carte non tanto per chiamarvi alla roulette ma per fare in modo che i vostri ragazzini imparino anche a capire che la parola pace non è solamente una parola indispensabile per noi ma indispensabile in tutto il mondo e allora questo vi richiede naturalmente un po' di lavoro nel senso che dovete preparare voi le carte questo video lo trovate sicuramente tra gli allegati scaricato tra gli allegati del modulo perché fa parte dell'attività di questo modulo lo amo guerriero il tempo di pace combatte se stesso immagina che non esistano nazioni non è difficile farlo niente per cui uccidere o morire e nessuna religione immagina che tutti vivano la loro vita in pace occhio per occhio servirà solo a rendere tutto il mondo cieco dentro ognuno di noi il pace è come un seme che nel deserto aspetta di poter genuino è questa la chiave di tutto rendersi conto di essere vivi ricordarsi che non è mai troppo tardi per voltarsi a guardare il sole ancora una volta le onde del nostro mare sono la pace danno il sorriso e l'allegria arrivano a noi e noi abbiamo il cuore che li accoglie come la terra la tolleranza è la virtù che rende possibile la pace la pace non è un segno può diventare realtà ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare abbiamo imparato a volare come gli uccelli a nuotare come i pesci ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli ed è tempo di aiutare la vita il più grande regalo del mondo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sicuramente i vostri allievi fanno lingue, fanno già inglese nelle scuole, nelle quinte? Sì, sì, dalla prima, anche dalla scuola dell'infanzia. Anche sì. È un'aspirazione mondiale di tutti quanti. Dopodiché si può allora passare a un discorso successivo e chiedere agli allievi che cos'è per voi la parola pace e cercate di esprimerla, magari costituendo dei gruppetti, con una parola, una frase, uno slogan. Formando in questo modo dei gruppi si può fare in modo che l'insegnante dia un tempo sui 10-15 minuti. Questo dipende da quanto tempo avete ancora a vostra disposizione. Che è in modo che ogni gruppetto di due o tre persone, dipende da quanto è grande la classe, si inventi una canzone o una poesia o uno slogan. Voi avete visto che mentre si giravano le carte venivano citati degli autori di frasi importanti e di frasi che sono rimaste importanti negli anni. Se riuscite a recuperare queste frasi, noi le abbiamo fatte in un elenco, ve le mandiamo in modo che possiate poi eventualmente scegliere quella che vi piace di più o farla scegliere dai vostri allievi in modo che rimanga come uno slogan. Naturalmente chiedete agli allievi di fare una rappresentazione che dimostri simbolicamente che cos'è per loro la pace e poi la presenti naturalmente al resto della classe. E questo è il consolidamento al modulo precedente, quindi siamo arrivati alla fine del 24. Ci sono delle domande rispetto a questo? No, è tutto chiaro. Tutto a posto, benissimo. Allora passiamo al modulo 25. Il modulo 25 riprende il discorso sull'ambiente, sul patrimonio materiale e immateriale dell'umanità, sempre a partire da quelle che sono le disposizioni dell'UNESCO. L'UNESCO nel 1971 dedica una particolare attenzione al legame che è presente tra l'uomo e la biosfera. Sin dal 1971 l'UNESCO metteva in guardia l'umanità sul fatto che i comportamenti umani sono fortemente condizionanti rispetto al discorso dell'ambiente e pertanto chiedeva a tutti noi sin da allora di istituire delle zone protette e quindi la definizione del programma MAB che l'UNESCO aveva lanciato in quel momento è una definizione che proprio spiega che cosa significa Man and Biosphere e poi la definizione successiva di geoparco, cioè i geoparchi sono delle aree protette che esistono che esistono in varie parti del mondo e che hanno rappresentato una serie di difese nei confronti dei cambiamenti climatici per esempio. Allora il video che noi vi abbiamo preparato è un video che riguarda la zona MAB dell'arcipelago toscano. Sapevate che l'arcipelago toscano contiene una zona MAB? No, no, benissimo. Allora adesso se noi riusciamo a far partire il video, riusciamo a capirlo insieme se no lo andrete a vedere con più calma quando riceverete il materiale. In ogni caso c'è una riserva MAB all'interno delle isole della Toscana. Ciao, sono Alice, benvenuti nella riserva della Biosfera, isole di Toscana. Ciao, sono Gabriele. Ciao, sono Angela. Ciao, sono David. Sette isole che custodiscono preziosi tesori di biodiversità, uno straordinario patrimonio geologico e geominerario. La riserva della Biosfera, che comprende il più grande parco marino d'Europa ed è parte integrante del Santuario Internazionale dei Cetacei, è pronta ad emozionarvi. Nella nostra riserva della Biosfera la parola d'ordine è turismo sostenibile. Visite guidate ai più importanti siti naturalistici e archeologici, trekking, caia, mountain bike, snorkeling e tanto altro ancora in tutte le sette isole, insieme per scoprire colori, profumi, suoni, segreti di questo faboloso arcitelago nel cuore del Mediterraneo. Nella riserva della Biosfera ho le mie radici, qui costruisco il futuro dei miei figli. La mia riserva della Biosfera è orgogliosa di condividere! Siete riusciti a vedere e sentire correttamente il video? Siete riusciti a vedere e sentire correttamente il video? Siete riusciti a vedere e sentire correttamente il video? Sì, sì. Sì? Allora, perfetto. Allora, torniamo al PowerPoint. Io sono sentito, non ho visto. Va bene, comunque il link a tutti i video che vi abbiamo fatto vedere ve li manderemo, quelli che non erano nel kit didattico che abbiamo scelto per l'incontro di oggi, per introdurre alcuni temi, mentre questo, così come altri, li troverete o tra gli allegati, oppure come link proprio sul kit che vi verrà consegnato. Quindi, in ogni caso, tutti i video che vi abbiamo fatto vedere riuscirete poi a reperirli in questa maniera qua. infatti, come vediamo adesso dal PowerPoint, la visione del video che abbiamo appena visto è la prima fase dell'esercizio del modulo 25, del modulo di base educazione alla protezione dell'ambiente. In allegato abbiamo inserito anche la lista degli 11 geoparchi presenti in Italia e anche la lista di quelle che sono le zone MAP presenti in Italia. L'esercizio che proponiamo è quello di riformare i gruppi dei moduli precedenti o comunque creare nuovi gruppi, a seconda di quello che voi preferite, e distribuire ad ogni gruppo la scheda dove sono i geoparchi in Italia. Lo vedrete poi nella prossima slide. I bambini dovranno cercare di localizzare i geoparchi nella cartina, che è una cartina muta, diciamo, nel senso che ci sono i riferimenti, ma non è segnato a quale riferimento corrisponda il geoparco e sta appunto ai bambini cercare di posizionare i diversi geoparchi sulla cartina. L'insegnante procede alla correzione e mostra sulla LIM la soluzione. In questo caso si può chiedere appunto ai bambini se hanno già visitato uno o più geoparchi spiegando anche dove si trovano. Questa è la cartina che distribuirete, che trovate in allegato ai bambini con l'elenco degli undici geoparchi italiani, mentre questa è poi la cartina con le diverse soluzioni. A tal proposito possiamo parlare sempre di un percorso di cui ci occupiamo noi. Nel 2024-2025 il percorso formativo che ogni anno proponiamo alle scuole, sia primarie che secondarie di primo e secondo grado, concluderà un percorso triennale che è iniziato nel 2022-2023 con un percorso sul patrimonio materiale, in particolare il patrimonio materiale piemontese. Nel 2023-2024 il tema è stato quello del patrimonio immateriale, sempre con particolare attenzione al patrimonio piemontese, mentre nel 2024-2025 il tema sarà quello delle zone MAB e dei geoparchi UNESCO e ci si chiederà, si cercherà di rispondere insomma a questa domanda se appunto zone MAB e geoparchi UNESCO possono essere una risposta al cambiamento climatico. Come dicevo, i disegnatari sono tutti gli istituti scolastici della regione Piemonte, anche dei più di 100 club per UNESCO italiani, che quindi sono membri della Federazione Italiana, e le scuole a cui ha disegnato il percorso sono primarie e secondarie di primo e secondo grado. Nel caso in cui voi siete interessati, i nostri contatti sono sempre questi www.cutorino.org oppure se volete scriverci noi rispondiamo all'indirizzo segreteria chiocciola.cutorino.org Il percorso inizierà l'11 novembre in occasione della giornata mondiale della scienza e si concluderà a maggio. Le iscrizioni sono aperte fino alla metà di ottobre, proprio il 15 ottobre. Passiamo quindi al modulo di consolidamento in cui facciamo, come sempre, partiamo dalla formazione dei gruppi che, come sempre, possono essere gli stessi gruppi dei moduli precedenti oppure potete formarne di nuovi, potete anche scegliere di mantenere gli stessi gruppi per il modulo di base e quello di consolidamento e poi cambiarli ogni volta che si cambia il tema, è a vostra discrezione. Ogni gruppo sceglie una regione italiana facendo in modo che non ci siano gruppi a cui viene assegnata la stessa regione. Si mettono a disposizione dei diversi gruppi le fotocopie di questi documenti che, come dicevo, troverete negli allegati o del modulo 25 oppure del modulo 26. La lista del patrimonio mondiale UNESCO, la lista del patrimonio immateriale UNESCO che questi invece fanno parte addirittura del tema precedente li trovate quindi negli allegati precedenti l'elenco delle riserve MAP UNESCO e l'elenco dei giocoparchi mondiali UNESCO. L'insegnante propone quindi di identificare ciascun riconoscimento quindi patrimonio mondiale, patrimonio immateriale, riserve MAP, geoparchi con un simbolo grafico differente. I simboli grafici ovviamente riprendono quelli che sono i loghi ufficiali dei riconoscimenti UNESCO. Questi, questo è sempre un allegato al modulo, sono i loghi ufficiali quindi il patrimonio materiale, il patrimonio immateriale, il logo delle riserve MAP e il logo dei geoparchi. In un altro allegato vi riproponiamo in maniera semplificata quelli che potrebbero essere i simboli che assegnate voi insegnanti ad ogni riconoscimento. Quindi vedete che corrispondono a quelli ufficiali ma sono semplicemente più facili da disegnare. Ogni gruppo che avrà quindi una regione diversa dovrà creare una sorta di carta d'identità della regione che gli è stata assegnata. Si può quindi disegnare il profilo stilizzato della regione oppure ovviamente nel caso in cui preferiate cercare una versione stilizzata della regione che è stata assegnata al gruppo e si può stampare. Bisognerà scrivere il nome del capoluogo di regione e disegnare un punto rosso in corrispondenza del capoluogo. e poi bisognerà disegnare il simbolo individuato per i siti del patrimonio mondiale unesco in corrispondenza della loro localizzazione. Se ci sono più di un riconoscimento come probabilmente sarà i siti possono essere appunto i simboli possono essere numerati. Qui è una ripetizione Si disegnerà anche Ah no, scusate Bisognerà disegnare ovviamente un simbolo per ogni sito del patrimonio mondiale per ogni riconoscimento del patrimonio immateriale per ogni riserva Mab e per ogni geoparco presenti all'interno della regione che è stata assegnata al gruppo. Si predisporrà quindi una leggenda che è presenti nella colonna sinistra quindi si creano due colonne nella sinistra il simbolo utilizzato per rappresentare diversi riconoscimenti mentre nella colonna di destra vengono scritti i nomi per esteso dei siti del patrimonio mondiale dei riconoscimenti del patrimonio immateriale delle riserve Mab e dei geoparchi. Alla fine di questo lavoro ogni gruppo avrà il compito di fare una presentazione davanti al resto della classe in cui racconterà la regione che è stata assegnata in base ai riconoscimenti UNESCO che si trovano al suo interno. I cartelloni potranno quindi poi essere esposti in classe come dicevamo precedentemente nel caso in cui non abbiate la possibilità di fare dei cartelloni fisici si può fare un lavoro anche tramite strumenti come PowerPoint, come Canva si può fare anche un lavoro insomma online da proiettare invece con la lavagna interattiva. Avete delle domande dei commenti sul modulo 25 il modulo 26 Vi è chiaro come... Assolutamente tutto chiaro Perfetto ottimo Mi sembra tutto utile oppure vi sembra tutto inutile? Utilissimo pensare che io non so sono toscana e questa della riserva Mab non la sapevo delle isole toscane mi sento alquanto ignorante sinceramente Ma non è no 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 non è un caso raro è un caso comune anche alle autorità nazionali e regionali Ah, meno male perché io dico eppure la frequento la costa d'Argentario insomma l'isola del Giglio ma io non ne sapevo nulla quindi Eh, meno male allora allora qualche cosa serve Eh sì ogni giorno si impara cose nuove vero? Certo, meno male tra l'altro ci saluti l'isola del Giglio che amiamo molto comunque va bene allora siamo contenti che queste cose servano e passiamo quindi ad una cosa che è più eh legata strettamente a quello che è il discorso di educazione civica a questo punto nazionale nazionale secondo noi non è solamente un'accezione creata di questi anni ma è una modalità per dire apparteniamo ad una nazione la nazione ha normalmente una costituzione che è l'insieme dei principi fondamentali che costituiscono l'ordinamento generale della nazione questo voi lo sapete perfettamente naturalmente le nazioni possono o meno aderire a delle più ampie aggregazioni di altri paesi nel caso della nazione italiana la nazione italiana partecipa anche alla Unione Europea e oltre a partecipare all'Unione Europea partecipa anche alla a tutta una serie di organizzazioni internazionali ai quali non è obbligatorio partecipare ma si partecipa attraverso una modalità espressa per esempio una modalità espressa dall'Italia nel 1950 è stata quella di appartenere anche all'ONU ONU che significa Nazioni Unite organizzazione delle Nazioni Unite che come abbiamo già detto prima nasce nel 45 alla fine della seconda guerra mondiale tornando alla nostra Costituzione voi questo dovreste saperlo perché è sicuramente vostra materia di insegnamento quindi non è che ci soffermiamo sul raccontarvi il perché cioè sono principi fondamentali c'è una parte 1 e una parte 2 ci sono delle disposite transitorie abbiamo semplicemente pensato di approfondire una parte che difficilmente si approfondisce cioè la parte dei simboli la parte dei simboli che dice che cos'è un simbolo secondo voi è qualcosa di semplificato che fa capire attraverso un messaggio cioè un messaggio un qualche cosa perfetto allora qual è il primo simbolo che ci viene in mente quando parliamo di nazione di patria la bandiera bravissima la bandiera e l'inno nazionale abbiamo assistito per chi ha assistito alle olimpiadi e alle parolimpiadi il vedere il tricolore salire il vedere alcuni atleti che riuscivano a cantare o addirittura il pubblico che riusciva a cantare l'inno nazionale ha costituito un momento di commozione generale quindi quello è un simbolo che di per sé rappresenta o dovrebbe rappresentare i valori intorno ai quali tutti i cittadini della stessa nazione si ritrovano d'accordo ma un simbolo che proprio riferito alla bandiera pochi conoscono è il simbolo della bandiera del Presidente della Repubblica voi sapete che il Presidente della Repubblica ha una sua bandiera particolare il Presidente della Repubblica italiana qualunque questo sia non è che Mattarella ne abbia scelto uno è stato scelto all'inizio naturalmente della Costituzione della Repubblica quando si è passati da Monarchia a Repubblica si è passati naturalmente da una bandiera che aveva all'interno della bandiera italiana c'era un simbolo sabaudo si è tolto il simbolo sabaudo e si è messo un altro simbolo che era un simbolo di rappresentazione di una società democratica e di una nazione che aveva scelto la Repubblica invece che la Monarchia quindi con quali naturalmente quali sono questi simboli adesso lo vedremo ma prima di tutto bisognerebbe capire quanto di geografia riuscite ancora a fare all'interno delle vostre classi la geografia si fa ancora oppure no sì quindi sono le regioni sì non so che cosa intende per per che cosa si insegna sì quali sono le cose che insegniamo sì 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 si fa le regioni ma anche fatta anche la geografia fisica e la geografia politica o solo la geografia politica sì sì anche il Parlamento va bene allora noi vi proponiamo quindi un esercizio molto semplice che è quello di dire semplicemente insieme agli allievi con quali regioni confina la regione in cui si abita quali sono le regioni d'Italia che i singoli allievi hanno già visitato perché uno dei nostri principi è che vedere di Devisu una situazione così come avere voi davanti qua nella nostra aula sarebbe molto più simpatico e molto più interattivo ma questo non è possibile quindi comunque chiedere ai propri allievi che cosa si è già visitato dell'Italia che cosa ha colpito di più monumenti prodotti artigianato prodotti gastronomici tipici eccetera cioè che cosa ha caratterizzato questa loro visita molti dei nostri allievi vanno al mare vanno in montagna per andare a prendere un po' d'aria ma alcuni altri hanno genitori che li accompagnano anche a visitare dei musei e quindi scoprono anche delle altre caratteristiche delle regioni che vanno a visitare le regioni che sono state naturalmente le regioni che eccolo qua e poi nella fase 2 allora diciamo va bene le caratteristiche delle regioni che voi ci avete detto sono state interessanti fanno tutti parte facciamo tutti parte di una repubblica che è la repubblica italiana che è governata da un presidente della repubblica il simbolo che si trova all'interno della bandiera che il presidente della repubblica espone quando è presente a Roma è questo l'avete mai considerato l'avete mai visto siete mai stati a Roma a vedere del Quirinale con il presidente presente no allora io in questo ciclo ancora no però nell'altro ciclo avevamo analizzato questo emblema le varie parti ecco l'ulivo con i bambini ecco avevamo fatto anche un librino benissimo ed era stato interessante per i bambini sì era stato interessante anche perché non era la solita bandiera italiana con i tre colori che poi gli si dà sempre una spiegazione un pochino così superficiale no quasi e invece bisognerebbe magari approfondire anche quella ecco per i colori italiani io penso e che spiegazione lei dà agli tre colori italiani di solito che ne so il verde le colline o del nostro paese i prati invece magari più approfonditamente ma approfondito dovrebbe essere penso magari non so bisognerebbe provare quella più normale più semplice è appunto il verde delle colline il rosso del sangue dei nostri partigiani e il bianco delle nostre montagne tanto questa è la cosa semplificata se vogliamo appunto complicarla ma soprattutto amplificarla anche con altri simboli usiamo questa bandiera del Presidente della Repubblica che come giustamente voi vedete ha molti emblemi che sintetizzano la essenza della nostra Repubblica c'è da una parte l'ulivo che rappresenta molta della coltivazione che per esempio in Puglia è fondamentale l'altra parte è rappresentata dalla quercia la quercia che cosa significherà c'è scritto qua vi diciamo il ramo di quercia chiude a destra l'emblema e incarna la forza del popolo italiano entrambi sono poi impressioni delle specie tipiche del territorio arboreo quindi ritorniamo al discorso dell'ambiente come discorso fondamentale ed è un modo per dire che attraverso dei simboli e non solo attraverso delle parole possiamo significare la realtà poi esiste la stella la stella che è proprio al centro dell'emblema del Presidente della Repubblica che è uno degli oggetti più antichi del nostro patrimonio iconografico ed è sempre stata associata alla personificazione dell'Italia sul cui capo se voi pensate alle varie statue dell'Italia pensate ad una statua di donna che ha sulla testa sempre una stella no? ci pensate ce ne abbiamo parecchie ne abbiamo viste parecchie ma non abbiamo mai posto attenzione comunque è sempre stata associata la personificazione dell'Italia sul capo insasplende raggiante e qui si può fare naturalmente una riflessione più amplificata ancora dobbiamo scoprire il significato della ruota il lavoro esatto degli uomini il primo all'interno si dice l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro potremmo mettere molti puntini e molti punti interrogativi su che cosa significa il lavoro oggi ma comunque questo è quanto la costituzione italiana dice sin dall'inizio del suo mandato del suo naturalmente del suo scritto fondata sul lavoro vuol dire che non è fondata sul contributo che ci arriva dagli Stati Uniti o il contributo che ci arriva da qualche altro paese ma è fondata sul lavoro dei nostri cittadini e questo dovrebbe essere uno sprone per i nostri cittadini questa è la prima fase la terza fase ve la racconta la nostra procedo io allora parlando sempre di simboli dello Stato Italiano ovviamente abbiamo citato prima l'inno nazionale che nella terza fase di questo modulo l'insegnante fa ascoltare agli allievi quando cantiamo l'inno spesso si ripetono le parole senza capire che cosa significano e quindi è importante fare anche un lavoro di comprensione di quello che viene cantato si possono riformare i gruppi precedenti o formarne di nuovi e ogni gruppo riceve una strofa dell'inno di Mameli che sono in totale cinque anche se solitamente ne vengono utilizzate molte di meno e ogni gruppo può provare a semplificare riformulare il testo della strofa che è stata assegnata alla fine di questo lavoro ogni gruppo legge la strofa nel modo che ha provato appunto cioè che ha trovato nel modo semplificato che ha trovato e l'insegnante avrà il compito di correggere eventuali errori spiegando cosa significano i termini che magari non sono riusciti a semplificare perché sono termini che non si utilizzano più oppure per esempio che cosa significa schiava di Roma che molti si rifiutano di cantare per esempio e ha un significato ben più profondo da quello che è invece quello che sia normalmente si dice se ci sono dei bambini originari di altri paesi che conoscono la bandiera del paese da cui provengono o da cui proviene magari uno dei genitori che non è italiano o conoscono l'inno del proprio paese di origine oppure di un altro paese possono fare una presentazione davanti a tutta la classe e illustrare ai propri compagni la bandiera l'inno di questo paese sì questo può essere poi lasciato in classe e si può dimostrare simbolicamente quante sono le etnie o quante sono le nazionalità presenti all'interno di una classe se vicino alla piccola bandiera italiana che può essere costruita anche dagli allievi con dei pezzi di carta colorati appositamente e gli altri bambini di altre nazionalità costruiscono la loro poi si mettono le bandierine e si dice ah bello la nostra classe ha ben cinque nazionalità presente oppure la nostra classe ne ha solo due e via di questo pasto invece di vedere la presenza degli stranieri come una cosa che è assolutamente esecranda proviamo a vederla come un arricchimento reciproco delle comuni culture passiamo adesso al modulo di consolidamento e in questo caso torniamo all'allegato in cui si parlava dei documenti necessari per poter affrontare il tema dell'educazione civica e parliamo della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in particolare il preambolo trovate la carta in allegato al modulo si legge i popoli d'Europa nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni ci sono sul sito ufficiale dell'Unione Europea delle attività che è possibile fare al link che vi segnaliamo qua appunto e che ritroverete poi nel kit ci sono delle attività proprio adatte ai bambini attraverso cui possono capire un po' meglio di che cosa si tratta cos'è l'Unione Europea e quali sono le caratteristiche dei paesi che la confongono nell'esercizio trova gli indizi gli alunni possono come dicevo prima pure appunto scoprire le caratteristiche dei 27 paesi dell'Unione Europea c'è una pagina in cui sono nascosti 10 indizi per ogni paese e cliccando sugli indizi si scoprirà appunto una curiosità del paese che si sta visitando ad esempio si può iniziare mostrando l'esempio dell'Italia e questo lo si fa perché appunto i bambini possono capire meglio come funziona il gioco si può quindi tornare a dividere la classe in piccoli gruppi per un massimo di quattro allievi a gruppo e chiedere a loro di visitare almeno due paesi o farlo anche tutti assieme in classe con la lavagna interattiva in alternativa si può scaricare ma l'abbiamo anche scaricato noi all'allegato 3 sempre tra gli allegati del modulo 28 ci sono le schede di presentazione dei 27 paesi ai gruppi si può distribuire uno o due schede chiedendo a ogni gruppo di leggere le schede con attenzione e di preparare due domande che faranno agli altri gruppi in relazione alla fine dei 15 minuti un portavoce che viene scelto per ogni gruppo porrà una domanda agli altri gruppi relativa a uno dei paesi che ha visitato ad esempio una domanda che possono fare sapete qual è la vetta più alta d'Europa in quale paese si trova l'esercizio continua l'insegnante ritaglia i 27 stati appartenenti all'Unione Europea gli stati che vengono ritagliati vengono poi distribuiti ai gruppi e i gruppi assegnano i simboli alle nazioni corrispondenti al termine degli abbinamenti viene fatto appunto un confronto e una correzione infine visto che siamo partiti dai simboli dell'Italia all'inizio del modulo di base si può chiedere ai bambini se l'Unione Europea ha un inno noi vi abbiamo lasciato qua un link che porta all'inno alla gioia di Beethoven in lingua in lingua originale ma vi lascerei troverete poi anche un link all'inno con la traduzione in italiano e la spiegazione di perché è stato scelto proprio l'inno alla gioia come inno dell'Unione Europea è evidente che l'inno alla gioia di Beethoven è scritto in lingua tedesca ed è naturalmente un linguaggio abbastanza difficile ci è stato detto altre volte che è troppo difficile per i bambini ma noi siamo confidenti nel fatto che non sia troppo difficile per gli insegnanti e che comunque sia interessante capire anche da parte per i bambini che questo inno alla gioia è significativo proprio perché è proposto come una modalità per vivere tutti insieme in una dimensione futuribile dove si viva si possa vivere effettivamente in pace al di sopra di quelle che sono le lingue singole dei diversi paesi che tanto ci ossessionano quando compriamo una lavatrice e abbiamo un libretto di istruzioni che dura 200 pagine proprio perché ciascuna lingua deve essere rispettata e le istruzioni sono scritte in ciascuna delle lingue questo è uno degli appesantimenti dell'essere tutti insieme però direi che è l'unico e poi ci sono ci sono delle regole che vanno ovviamente osservate ma che danno poi anche dei vantaggi estremamente interessanti si può aprire una discussione su questo se i vostri ragazzi sono stati abituati a discutere anche di questo argomento per esempio l'allontanamento da parte dell'Unione Europea della Gran Bretagna è stato un allontanamento che in questo momento sta causando dei ripensamenti proprio per alcune delle ricadute che sono state che erano già state previste ma che adesso si stanno realizzando quindi il modificare delle modalità di stare insieme per arrivare insieme a raggiungere gli obiettivi anche se questo è faticoso è comunque sempre premiante rispetto a quello che è lo stare isolati o lo stare nascosti dietro il banco per non far vedere che si sta giocando con qualche gioco elettronico invece che sta seguendo l'insegnante per tornare all'esercizio ad esempio prima di simboli un'altra cosa si potrebbe fare per parlare dell'Unione Europea e far conoscere ai bambini la bandiera dell'Unione Europea e magari se si sono stampate le bandiere dei diversi paesi dei diversi stati a cui appartengono i bambini della classe si può aggiungere anche la bandiera dell'Unione Europea questa potrebbe essere anche un'idea per far conoscere altri simboli e per avvicinare anche i bambini all'Unione Europea e a riconoscerla tra l'altro il fatto che nell'Unione Europea ci siano le stelle congiunge il simbolo del nostro Presidente della Repubblica con le stelle dell'Unione Europea questo non è una cosa indifferente potrebbe essere un'osservazione interessante un'altra cosa che potreste fare proprio perché abbiamo fatto riferimento più volte alle Olimpiadi è presentare la simbologia della bandiera o meglio delle bandiere delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi voi sapete riconoscere il perché e com'è la bandiera delle Olimpiadi e com'è la bandiera delle Paralimpiadi qualcuno ci sa descrivere la bandiera delle Olimpiadi dei giochi olimpici meglio è una bandiera su fondo bianco che ha quanti cerchi 5 cerchi che hanno 5 color diversi 5 cerchi di 5 color diversi che erano i colori che rappresentavano i continenti che rappresentavano i continenti oggi non rappresentano più oggi bisognerebbe aumentare i colori perché le bandiere delle nazioni che partecipano e che sono diventate nazioni indipendenti sono molte di più perché De Goubertin naturalmente aveva fatto questa bandiera in un momento in cui esisteva ancora la colonizzazione con la decolonizzazione le bandiere hanno assunto colori che nei 5 diciamo che il bianco di sfondo è un bianco che aiuta a rappresentare tutto quello che per ora non è rappresentato però sarebbe interessante andare a vedere quali sono i colori che si potrebbero raggiungere proprio a partire da alcune nazioni che hanno partecipato a questi giochi olimpici del 2024 e che fino ad ora avevano partecipato sotto bandiere di paesi stranieri un altro elemento è invece considerare la bandiera delle parolimpiadi voi sapete che è diversa? la bandiera delle parolimpiadi l'avete osservata? la bandiera delle parolimpiadi ha tre sorte di virgole queste tre virgole che a loro volta sono di tre colori diversi sono rosso verde e blu? sì sono rosso verde e blu sempre sul fondo bianco quindi il bianco fa sempre da sostegno e diciamo è un colore neutro che può rappresentare tutti gli altri colori ma comunque le tre virgole sono a simbolizzare l'insieme del corpo della mente e dello spirito e il motto è che si vince solo mettendo insieme mente corpo e spirito si riescono a superare tutte le difficoltà e questo potrebbe essere una riflessione interessante soprattutto per quelle classi dove ci sono bambini disabili o ci sono bambini che hanno delle difficoltà motorie o difficoltà di vario genere dire loro queste difficoltà possono essere superate sono state dimostrate queste possibilità dalle Olimpiadi che ci sono appena state dove per fortuna l'Italia sta facendo una bellissima figura e i nostri atleti riescono ad avere molti successi con molta forza di volontà naturalmente questo è un altro elemento forza di volontà e nello stesso tempo senso di responsabilità di non solo fare uno sport che faccia piacere loro fare ma farlo per dimostrare che la nazione che si rappresenta è una nazione che li ha agevolati di fatto una cosa interessante se voi state sentire le testimonianze degli atleti sia di quelle delle Paralimpiadi che di quelle delle Olimpiadi sono i ringraziamenti che queste persone fanno a chi li ha aiutati a raggiungere certi risultati a tutte le forze armate o comunque i genitori o comunque gli insegnanti o comunque gli allenatori e tanto è un'ulteriore dimostrazione che un risultato non si raggiunge da soli ma che un risultato si raggiunge se ci si mette a ricercare una soluzione di un problema e a ricercare un gruppo che ci aiuti a risolvere il problema risolvere il problema da soli è una difficile cosa è di difficile soluzione adesso ci stiamo avviando verso la fine avete delle domande dei commenti rispetto a questi due moduli che abbiamo appena concluso sembra di no vuol dire che siamo molto molto chiari oppure che vi abbiamo addormentato completamente allora abbiamo solo più due moduli il 29 e il 30 il 29 è naturalmente il modulo base il 30 è il modulo di consolidamento e li dedichiamo alla dichiarazione universale sulla responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future questa è una dichiarazione che l'UNESCO scrisse nel 1997 e fece adottare dalla conferenza generale la conferenza generale è una conferenza che ogni due anni si celebra a Parigi che è la sede centrale dell'UNESCO che vede insieme i 193 paesi di 94 in questo caso che rappresentano naturalmente ciascuno di loro una nazione diversa questa naturalmente questa dichiarazione l'UNESCO l'ha fatta approvare perché l'UNESCO credeva fortemente e crede fortemente che le generazioni presenti abbiano innanzitutto una grande responsabilità nei confronti delle generazioni che verranno e ha sempre sottolineato che il legame tra le generazioni di adulti e le generazioni di giovani deve essere molto stretto e deve essere un legame estremamente solidale la dichiarazione è fatta di 12 articoli e di un preambole adesso li vediamo un momento eccolo qua qui invece si parla della struttura delle Nazioni Unite ne abbiamo già parlato prima abbiamo detto che appunto sono andate nel 1945 fondate nel 1945 e che ad oggi hanno 193 paesi membri la sede è ovviamente a New York e il segretario generale dal 2017 è Antonio Guterres che oggi vediamo sempre di più nelle insomma nei servizi nazionali internazionali insomma è composta appunto da un'assemblea da diversi organi tra cui sicuramente i più importanti sono l'assemblea generale che è composta da tutti i rappresentanti di tutti gli stati membri e il consiglio di sicurezza che è composto da 15 membri 5 dei quali sono permanenti i vincitori della seconda guerra mondiale quindi Stati Uniti Russia Gran Bretagna Francia e Cina e che hanno il potere di veto motivo di grande discussione all'interno della comunità internazionale quindi Stati Uniti Russia Gran Bretagna Francia e Cina possono impedire l'azione esatto ognuno di questi cinque membri permanenti può impedire le azioni del consiglio di sicurezza oltre ai cinque permanenti sono presenti anche dieci stati membri dieci componenti del consiglio di sicurezza e tre stati membri delle Nazioni Unite una volta ogni due anni quindi durano in carica due anni e hanno anche loro un potere decisionale non hanno un potere di veto ma hanno un potere decisionale nel senso che possono consigliare perché si arrivi ad avere una decisione comune l'attività l'attività del modulo 29 consiste nel fare dei puzzle dei continenti i puzzle li trovate in allegato li potete stampare e tagliare secondo le indicazioni noi chiedo scusa noi abbiamo fatto in modo artigianale questo esercizio o meglio questo materiale perché l'anno scorso c'era stato obiettato che era troppo faticoso per gli insegnanti fare cioè ritagliare i continenti se voi non volete ritagliare i continenti che noi vi abbiamo disegnato fate pure con il materiale che ritenete non è tutto questo che noi vi proponiamo ovviamente sono proposte non sono delle imposizioni quindi se trovate dei continenti meglio disegnati fate pure insomma il succo è quello di far capire ai ragazzi quello che vi stava dicendo Giorda che vi lascio la parola di voi far capire appunto come è diviso il mondo cioè i cinque continenti e saperli anche riconoscere si formano quindi cinque gruppi ogni gruppo riceverà un puzzle di un continente Europa Asia Africa America e Oceania e ogni gruppo avrà 15 minuti di tempo per comporre il puzzle si può comporre il puzzle su un cartellone così da poterlo poi trasportare una volta completato l'esercizio proprio per riconoscere i continenti anche all'interno di un planisfero se ne può formare uno con i puzzle che si sono appena composti a supporto ci saranno anche noi abbiamo fornito anche delle cartine mute del mondo una con tutti i continenti separati mentre una che possono aiutare appunto a comporre il planisfero per quanto riguarda il continente europeo l'insegnante in una terza fase di questo esercizio può individuare l'Italia o fa individuare l'Italia dai ragazzi dai bambini e individuare anche quali sono le nazioni confinanti oppure se i bambini conoscono altre nazioni dell'Europa oppure nel caso in cui ci siano bambini provenienti da altri paesi si può anche fare in modo che indichino o che si si trovi insomma il paese da cui provengono sul planisfero appena costruito questo è un esempio dei continenti che vi abbiamo fornito e che sono da ritagliare poi da comporre e questo invece è un esempio del planisfero di come può risultare per quanto riguarda invece il modulo di consolidamento quindi il modulo 30 il modulo 30 riprende uno degli obiettivi dell'agenda 2030 abbiamo parlato all'inizio dell'agenda 2030 e delle difficoltà degli obiettivi dell'agenda 2030 di essere attuati soprattutto essere attuati intorno al 20 all'anno 2030 ma una delle difficoltà oltre a quelle citate abbiamo citato la pandemia abbiamo citato le guerre è anche la situazione di ciascuno di noi noi siamo sempre più individualisti siamo sempre di più egocentrici siamo sempre di più capaci di pensare a noi stessi difficilmente di pensare agli altri questo forse nella scuola elementare non è ancora così marcato però tristemente poi man mano si diventa grandi man mano si diventa più egocentrici e si diventa più egoisti allora volevamo concludere con un esercizio forse un po' duro ma comunque che potrebbe servire serve quando noi l'abbiamo fatto abbiamo avuto degli ottimi risultati a far provare ai bambini il significato di eccoaccesso cioè si propone un esercizio pratico che richiede ad una classe naturalmente che ormai sia affiatata stiamo parlando di una quinta e quindi in una quinta si dovrebbe essere un bel gruppo che è in grado di scegliere dopo due minuti di riflessione quale comportamento adottare per arrivare ad una distribuzione equa cioè che cosa significa distribuzione equa e adesso lo vediamo l'insegnante porta in classe un numero di merendine corrispondenti alla metà del numero totale dei bambini esempio se ci sono ovviamente 20 alunni si portano solo 10 merendine divide i bambini in due gruppi il gruppo A e il gruppo B li dispone in due cerchi concentrici ciascun gruppo intorno a un tavolo pone 10 merendine sul tavolo intorno al quale sono seduti i componenti del gruppo A mentre il gruppo B sta a guardare e non riceve nulla cioè sta a guardare seduto dove è stato detto al gruppo B di stare seduto ma non riceve assolutamente nulla a questo punto l'insegnante chiede alla classe naturalmente l'insegnante aspetta un 2 o 3 minuti prima di chiedere alla classe ma ho fatto un'equa suddivisione delle merendine qual è chiede pertanto al gruppo A cosa fareste delle merendine ricevute e aspetta che naturalmente ci siano delle risposte e poi chiede al gruppo B ma cosa avete provato a non ricevere nulla e nessuna merendina cosa proponete per arrivare a un'equa suddivisione delle merendine tra tutti a seconda di quanto naturalmente i due gruppi hanno risposto si passa all'attuazione delle proposte naturalmente le proposte possono essere le più varie l'insegnante deve essere in grado di accoglierle e eventualmente indirizzarle è chiaro che se una proposta è me le mangio tutte io che faccio parte del gruppo A ma neanche voglio condividere con il gruppo A questa è una proposta che si può dire va bene allora valutiamo se questa proposta è una proposta che tutti accettano allora mettiamo in gioco magari la capacità di votare o non votare una soluzione se abbiamo imparato nel mesi precedenti negli anni precedenti a questa nostra quinta elementare a votare le decisioni vediamo quanti votano questa proposta di Pierino che ha detto che se le vuole mandare tutte lui e magari scriviamo alla lavagna che la proposta di Pierino che se le mangia tutte lui o che se le porta a casa per mangiarle con comodo e magari c'è anche qualcuno che dice che Pierino ha ragione e poi andiamo avanti magari con un tempo che decidiamo quale sia e scriviamo tutte le proposte dopodiché le facciamo votare e a seconda del tipo di proposta e di votazione che la proposta ha ricevuto scegliamo la proposta a seconda di quanto i due gruppi hanno risposto si passa all'attuazione delle proposte la riflessione guidata è che cosa ho provato ciascun allievo durante l'esercizio cioè l'esercizio gruppi che sono stati prima di tutto trattati in modo diverso due gruppi che hanno avuto delle reazioni vediamo quale reazioni e poi quindi che cosa ciascuno ha provato io mi sono sentito del privato ho visto un gioco ho capito subito che l'insegnante lo faceva per farci giocare oppure sono veramente arrabbiato con i ragazzi del gruppo A o B eccetera eccetera questo perché stiamo constatando ma credo che non sia una constatazione solo nostra che l'aggressività sta crescendo in modo abbastanza esponenziale e che la fragilità contemporaneamente dei nostri bambini è una fragilità sempre più presente e questo ci porta a naturalmente fare una proposta di attività alternativa se ritenete questa attività un'attività non consona al vostro gruppo e qui l'attività è molto semplice chiede ai bambini di scrivere o disegnare il cibo che hanno consumato la sera precedente a cena o quale merenda hanno portato a scuola quel giorno poi scrivere alla lavagna le seguenti domande quanti e quali i colori ci sono del vostro menù questo è strettamente legato al tipo di alimentazione e quindi sembra assolutamente diverso ma può essere un'alternativa comunque rispetto a quello che è stato proposto precedenzialmente si chiede se la merenda è confezionata preparata a casa o se un frutto i bambini sono invitati a rispondere alle domande in piccoli gruppi l'insegnante aiuta i bambini a riflettere sulle loro risposte che rende ad esempio quanti di voi hanno riscontrato almeno tre colori nel menù della cena di ieri sera e via di questo pasto questo perché per la verità questo nostro stand veniva dietro un altro che proponeva i colori dei menù quindi magari questa domanda non ha più senso quanti di voi hanno una merenda confezionata quanti un frutto quanto una merenda preparata a casa per promuovere il consumo di frutta e verdure di stagione l'insegnante illusa ai bambini il calendario realizzato da altro consumo proprio appunto perché noi facevamo questa proposta dopo le proposte fatte da altro consumo e abbiamo anche allegato comunque qual è il calendario realizzato da altro consumo e propone di appenderlo in classe in modo che sia facile la consultazione che gli allievi ne possono fare questa è un'alternativa che sembra abbastanza scollegata dal resto che vi abbiamo fin qui proposto ma era per collegarla a un'altra proposta che vi verrà fatta all'interno delle proposte del gruppo del Montepaschi di Siena ritornando alla proposta numero uno che è quella che noi abbiamo già sperimentato vorremmo sapere che cosa ne pensate se pensate che è una cosa difficile da realizzare oppure se pensate di poterla realizzare con successo sicuramente uno ci prova a realizzarla poi se è con successo dipende sempre dai bambini che abbiamo davanti in quel momento e come rispondono perché ogni classe insomma è sempre diversa una dall'altra però provare ci si prova sempre io ho già fatto alcune cose di queste quindi sì sì quindi si può provare come sempre in effetti l'altra parte si impara facendo si impara anche a vedere a verificare anche le reazioni che possono essere diverse di anno in anno non è detto che ogni anno appunto come è stato giustamente detto il gruppo sia sempre lo stesso abbia le stesse caratteristiche comunque questa è ripeto questa e le altre sono delle proposte che voi potete sicuramente modificare migliorare sarebbe molto interessante per noi avere le proposte di vostri miglioramenti perché noi abbiamo solamente come interlocutrice una persona del Montepaschi che ci dice ci fa dei feedback rispetto alle proposte che vengono dagli insegnanti a noi è stato detto quest'anno quando ogni anno ci viene richiesto di rivedere il modulo ci è stato detto no la cosa che gli insegnanti vogliono è non avere troppo lavoro da fare a casa ma per il resto le vostre proposte vanno bene io non so se voi siete parte di questo gruppo che ha problemi a lavorare a casa preparando anche solo per esempio le cartine dei continenti no io parlo per me sinceramente lei quando parlava di fare anche il puzzle di scaricare noi per dire questi giochi li abbiamo acquistati li abbiamo sia il legno che un puzzle di legno sia sulla composizione per costruire l'Italia sia per l'Europa per dire e abbiamo il legno che sia cartonato piuttosto resistente per utilizzare nello stesso momento per diversi gruppi l'abbiamo fatto addirittura plastificato l'abbiamo praticamente stampato ritagliato e plastificato da farlo fare contemporaneamente a più gruppi noi almeno è un ottimo suggerimento grazie grazie ci sono altri prego il problema io sono dell'istituto comprensivo di Montepulciano io abito a Pienza quindi città unesco lavoreremo su questo su questo abbiamo lavorato ci lavorano da sempre bambini però c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire ecco il problema che mi si presenta a me dico la verità probabilmente io sono un insegnante un po' lente nel lavoro però certe volte mi piace approfondire mi piace anche cercare cose particolari e un'ora alla settimana tra il modulo e poi il consolidamento io sinceramente faccio un pochino fatica per cui alcune volte che faccio cioè leggo il modulo nel caso modulo 29 quello che mi potrebbe eccetera e poi se posso integro già col modulo 30 mi sembra un'ottima idea certo perché io ecco fare non ce la farei sono a farli tutti con le poche ore che ci sanno noi che ci hanno riconosciuto e quindi ecco questo volevo dire e poi un'altra cosa volevo dire questa era solo grazie perché questo sì ecco e poi una particolarità che per quanto riguarda quello che dicevate delle bandiere allora noi avevamo i bambini durante proprio il lockdown quando eravamo quei due mesi e mezzo chiusi in casa che facevamo la DAD avevamo fatto questo lavoro delle bandiere anche perché i bambini erano diverse nazionalità ed erano stati aiutati anche dai genitori tanto erano a casa per cui avevano ricercato anche un po' la storia delle loro bandiere le avevano costruite colorate e poi ecco i bambini insieme ai genitori ci spiegavano la loro bandiera era stata una cosa molto carina insomma molto particolare anche per coinvolgere un pochino i bambini insomma in questa DAD che era diventato un incubo ecco questo volevo dire basta certo 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 ma grazie mille perché mi sembra che questo sia un ottimo feedback siamo perfettamente d'accordo i bambini devono essere coinvolti uno l'altro ovviamente il modulo base il modulo di consolidamento possono essere anche sintetizzati a seconda di quelle che sono anche i vostri programmi indipendenti da queste che sono ripeto sempre sono delle proposte per cui anche tutta la sequenza dei documenti che noi proponiamo naturalmente non deve essere presa e utilizzate integralmente ma potete scegliere quelli che sono i documenti che vi interessano di più e su quelli incentrare la vostra particolare attenzione certamente queste sono continuo a ripetere proposte proposte niente di più ci sono anche tante modalità alternative che possono essere messe in pratica per le attività abbiamo cercato anche un po' di proporre delle alternative proprio per questo perché tutti possano fare l'esercizio insomma con i mezzi che hanno a disposizione o che possono utilizzare in quel momento che possono essere adeguati alle tempistiche insomma per quello che riguarda Pienza immagino che i ragazzi siano abituati a capire che cos'è il patrimonio materiale però per esempio non sono abituati o meglio è poco conosciuto il programma MAB o il programma dei geoparchi quindi magari in questo caso sarebbe interessante che loro andassero a scoprire che cos'è più quello sono sicura che se allora gliel'ho detto noi abbiamo dei programmi cioè sin dalla scuola dell'infanzia cominciamo con Pienza ma man mano che arrivano le scuole medie trattiamo il nostro paese in tutte le salse e però sono sicura che benché ci siano cartelli da tutte le parti eccetera se io chiedo bambini scusa cosa vuol dire Pienza eccetera loro sono sicura che non lo sanno cioè ora proverò proverò a chiedergli se hanno la concezione di cosa vuol dire questo no perché poi noi ne abbiamo parlato anche quest'anno abbiamo fatto un progetto proprio con il paese insomma quindi la città col primo piano regolatore cioè tante cose loro lo sanno però non so se il concetto proprio il nome preciso loro sanno che cosa contiene no quindi voglio partire da questo certo mi sembra un'ottima idea d'altra parte il nome è un simbolo se non il simbolo principale che è riferito a quel territorio a quella città a quella località e allora da lì si può riscoprire per esempio molte dei nostri comuni sono intitolati a nomi di località che non esistono più o che sono state località romane che poi hanno cambiato destinazione o che hanno ridotto i loro confini quindi questo del scoprire meglio il territorio nel quale si abita è un modo per approfondire anche molti altri discorsi interdisciplinari che sono la storia che sono la geografia che sono anche la scienza perché molte delle situazioni territoriali sono andate mutando perché se voi immaginate che il mare arrivava fino a dove oggi in Piemonte esistono alba esistono le langhe il roere monferrato cioè i vini che vengono citati nel cinquantesimo sito patrimonio mondiale dell'umanità si vede che naturalmente una trasformazione il territorio del nostra piccola terra lo ha subito lo ha subito nei secoli e questo è interessante andare a scoprire per esempio i bambini che naturalmente vivono da quelle parti sono abituati a trovare dei fossili forse anche da voi non lo so ma lo scoprire il territorio è sempre molto interessante sì perché ecco il nome di Pienza lo sanno chiarissimo da dove viene e proprio vorrei chiederle se sanno che cosa vuol dire patrimonio mondiale dell'UNESCO ecco partire da qui è perché ci hanno messo lì insomma questo vorrei capire noi abbiamo non per niente riportato proprio il che cosa qual è la definizione che l'UNESCO dà di patrimonio mondiale proprio perché è molto interessante quello che lei dice perché riprende tutto il discorso che abbiamo fatto sinora è patrimonio mondiale in quanto siamo tutti quanti responsabili ormai di questo piccolo mondo quindi qualunque monumento al di fuori di Pienza è anche un monumento che noi dobbiamo tutelare ovunque noi andiamo abbiamo da tutelare e valorizzare i monumenti anche se appartengono all'Indonesia o anche se appartengono a dei paesi sconosciuti che andiamo a conoscere per puro caso questo dovrebbe aiutare tutti quanti a davvero sentirsi cittadini del mondo e quindi pensare che quando i nostri ragazzi vanno poi magari a studiare in giro non vanno a studiare in giro disperdendo il sapere che la Nazione Italia ha dato loro ma vanno a studiare e a portare in giro quanto il sapere Italia ha dato al mondo non ha dato solo a Pierino Rossi ma lo ha dato al mondo intero questa è la dimensione nella quale dobbiamo imparare a vivere tutti pur naturalmente nella consapevolezza che il nostro territorio è fondamentale perché come dice l'articolo 30 dell'articolo 29 chiedo scusa della dichiarazione dei diritti dell'uomo l'unico dovere che viene citato è il dovere che si cita all'articolo 29 della dichiarazione dei diritti dell'uomo che dice testualmente ciascuno di noi ha il dovere di partecipare responsabilmente alla vita della comunità dove deve crescere e imparare a responsabilmente dare quello che può dare allora questo è fondamentale ed è sempre da coniugare con una dimensione internazionale con una dimensione mondiale bisogna sapere imparare sul proprio territorio determinati valori per poterli poi sempre di più ampliare e portare avanti questo è il principio fondamentale che soprattutto dei bambini di cui dovrebbero portare come bagaglio all'interno delle esperienze che li aspettano nei cicli successivi ci sono altre osservazioni interessanti o anche non interessanti va bene lo stesso commenti suggerimenti allora siccome abbiamo ancora un po' di tempo non molto noi abbiamo preparato una chiusura che è una parte conclusiva del discorso del nostro presidente sempre riferita all'agosto del 2023 Mattarella concludeva sul discorso dicendo che ricordava Giuseppe Dossetti che nel 1995 diceva che l'assemblea costituente aveva fatto parte e aveva detto ai giovani non abbiate prevenzioni rispetto alla costituzione del 48 solo perché opera di una generazione ormai trascorsa la costituzione americana è in vigore da 200 anni e in questi due secoli nessuna generazione l'ha rifiutata o ha proposto di riscriverla integralmente ha soltanto operato singoli emendamenti puntuali al testo originale dei padri di Philadelphia nonostante che nel frattempo la società americana sia passata da uno stato di pioniere a uno stato oggi leader nel mondo è proprio nei momenti di confusione e di transizione indistinta che le costituzioni adempiono la più vera loro funzione cioè quella di essere per tutti punto di riferimento e dichiarimento cercate quindi di conoscerla di comprendere in profondità i suoi principi fondanti e quindi di farvela amica e compagna di strada vi sarà presidio sicuro nel vostro futuro contro ogni inganno e contro ogni asservimento per qualunque cammino vogliate procedere e per qualunque meta vi prefissiate questo è quello che Dossetti consigliava ai giovani allora è quello che noi consigliamo anche a noi proprio perché se si vuole diventare cittadini del mondo bisogna avere ben chiare quali sono le regole dalle quali si parte e alle quali si vuole ritornare alle quali si vuole contribuire perché vengano in qualche modo osservate non so se siete d'accordo ma comunque abbiamo detto inizialmente che c'erano state delle modificazioni nella nostra costituzione vi avevo parlato dell'articolo 9 in conclusione vi parliamo dell'articolo 33 nell'articolo 33 è stato aggiunto nel dicembre del 2023 una frase un comma finale che ricorda la valenza dello sport e che è particolarmente importante da ricordare in questi periodi proprio perché finalmente la costituzione italiana riconosce non dello sport perché il commento chiariva che non si era introdotta la parola sport per non introdurre una parola straniera all'interno del testo della costituzione ma si parla di attività fisica attività sportiva e attività sportiva dicendo che l'attività sportiva ha una valenza estremamente importante dal punto di vista educativo quindi ancora una volta si ricorda e qui vogliamo davvero concludere che l'educazione anche nel campo sportivo è fondamentale perché i valori dello sport vengano conosciuti rispettati imparati e magari conseguentemente poi trasmigrati anche nella vita comune e questa è l'ultima delle modificazioni che la nostra costituzione ha fatto negli articoli non fondamentali allora se siete ancora più o meno tutti d'accordo vi chiediamo dieci minuti di attenzione così come gentilmente avete risposto al google form che vi abbiamo inviato per avere i vostri dati e più o meno conoscervi vi chiederemo adesso un'attenzione per rispondere a qualche domanda conclusiva di valutazione del lavoro che abbiamo fatto insieme oggi pomeriggio adesso Dord che è esperta di questo vi manda il vi mando in chat il link al google form è simile a quello che vi abbiamo mandato precedentemente vi chiediamo appunto di rispondere a due domande che sono che cosa avete imparato e come pensate di metterlo in pratica anche per aiutarci a capire come costruire questi incontri al meglio e anche i kit scusi va fatto ora questa cosa bisogna farla ora in questo istante e provate ora si vi lasciamo 5 minuti così poi possiamo concludere dovremmo concludere il lavoro alle 5.30 noi puntualmente alle 5.30 le abbandoniamo anche prima se riuscite a rispondere vi diamo appunto 5-6 minuti per rispondere e poi facciamo un ultimo commento finale va bene così almeno non avete più da pensare a noi domani pensate magari a noi facciamo subito immateriale direi che subito è sempre meglio che domani sì sì loro non vedono come? loro non vedono grazie a tutti 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 Va bene, abbiamo per ora ricevuto un po' di risposte. C'è qualcuno che ha bisogno di ancora un po' di tempo per perdere il questionario? 16, 17. Sì, grazie, è proprio un minutino. Prego, prego. Grazie. Grazie. No, bisogna vederlo singolo per singolo, per capire. Bisogna vederlo singolo, risposta per singola risposta, per capire chi ha risposto. No, voglio capire dove la scuola viene. Questo qui che dice che è su per il continente, non sapeva da che scuola viene. Eh, bisogna guardarlo, o espruttarlo, oppure guardarlo risposta per risposta. Da qua non si capisce. No, devo dire un po' di risposta per risposta, perché in questo caso deve essere un'interessa per non vedere uno scuola. Esatto. Oltre a tutto, se ne parla di scuola, per quelli che non è mai più appuntato, per quelli che non è mai più appuntato, per che non è mai più appuntato, perché non è più di risposta per risposta. Allora possiamo ancora lasciare tre minuti, intanto noi abbiamo già letto le 33 risposte che gentilmente ci avete inviato per ora e possiamo dirci contenti perché siete stati molto attenti e ci avete scritto anche non solamente dei complimenti ma anche delle possibili variazioni di quello che farete. L'insegnante di disegno che è molto contento dei continenti ci farà la prossima volta dei migliori continenti di quelli che abbiamo fatto noi perché noi abbiamo dovuto ricorrere a una persona esterna perché non avevamo la capacità di fare dei continenti che fossero degni di dare il nome. Quindi ben venga chiunque ci possa aiutare nel migliorare anche il materiale pratico da inviarvi. Quindi grazie, ci sono ancora delle domande e dei dubbi? Comunque noi come vi ha già detto Giorgio e come ripeto io i nostri riferimenti sono stati messi in chat, la mail più normale per raggiungerci è segreteria-qtorino.it e potete cercare sul sito nostro www.qtorino.org eventuali possibilità. Se qualcuno di voi vuole partecipare al concorso sui diritti umani anche lì troverete sul nostro sito tutti i riferimenti. Se volete poi invece avere maggiori chiarimenti, ci telefonate, possiamo mettere anche il numero di telefono in chat e così la cosa diventa più bello. Anche se adesso le comunicazioni telefoniche sono 6965476. I giovani non sono più capaci di usare il telefono perché hanno altre sostituzioni, ma comunque io invece sono dell'idea che una bella telefonata per avere dei chiarimenti proprio con un dialogo può essere una cosa interessante. Quindi non preoccupatevi, telefonate se avete bisogno di telefonare. Noi abbiamo un ufficio che è aperto dalle 9.30 alle 17.30 tutti i giorni, meno il venerdì. Il venerdì siamo presenti solo la mattina dalle 9 alle 13 e durante la settimana andiamo a mangiare da mezzogiorno e mezza a luna, luna e un quarto. Quindi abbiamo questi orari che ci auguriamo possano aiutarvi a entrare in comunicazione con noi. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi ringraziamo per la collaborazione che avete dato sia nel compilare il questionario della conoscenza, sia il questionario dell'autazione e vi auguriamo un ottimo anno scolastico. visto che è quello che preme a tutti, che vada nel migliore dei modi. Tanti auguri a tutti. Grazie, buonasera. Grazie, arrivederci. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera.